allora buonasera a tutti quanti e bentornati su parabena o tutte quante visto che si lamentano chi non saluto mai del signore bentornato ad andrea gaspardo allora grande richiesta tra l'altro perché è un po che ci tartassavano sul fare sul coprire diciamo questo genere di conflitti non c'è molto in italia infatti qualcuno scriveva nei commenti dell'annuncio della live che in italia non si studia la scuola non c'è quasi nulla a riguardo che abbastanza interessante noi non ottica di storia eurocentrica la domanda interessante al giorno d'oggi si studia a scuola credo che questa sia la domanda vera che voglia sia il leggero comunque allora anch'io saluto tutti saluto il pubblico spero vivamente che anche questa puntata sarà apprezzata come lo è stata la nostra ultima live stream avente come argomento la battaglia di kursk oggi cambiamo totalmente area era storica perché finora le live stream le nostre live stream avevano avuto come argomentazione o vari brainstorming relativi alla guerra russo ucraina o le gran alcune grandi battaglie del fronte orientale della seconda guerra mondiale oggi invece parliamo di medio oriente che è un qualcosa di totalmente diverso con rispetto a quello che abbiamo detto finora detto questo io vorrei solamente dire un paio di cose prima di entrare diciamo nel nel vivo dell'azione una cosa per il pubblico allora raramente al giorno d'oggi si incontrano argomenti così divisivi come le guerre arabo israeliane e in generale il conflitto israelo palestinese israelo arabo in generale e questi sono degli eventi tuttora in corso perché purtroppo il conflitto come ben sappiamo non è ancora finito che portano a una polarizzazione estrema dell'uditorio nel senso che è vero anche il conflitto attuale russo ucraino porta però nel caso specifico del conflitto delle guerre arabo israeliane del conflitto israelo palestinese purtroppo ho avuto modo di constatare che l'uditorio tende a dividersi in maniera religiosa tra i filo israeliani e i filo palestinesi ora senza nulla togliere alle convinzioni personali di ciascuno di noi lo spirito con cui io e il feld maresciallo mirko abbiamo deciso di improntare questa e le prossime puntate è quello rigidamente storiografico informativo noi cercheremo per quanto umanamente possibile di non prendere assolutamente parte rispetto all'uno all'altro anche se ovviamente descriveremo in maniera oggettiva quelli che sono e che sono stati gli interessi e le strategie dei vari contendenti quantunque discutibili faremo anche la doverosa critica rispetto a scelte politiche o scelte strategiche che hanno portato i contendenti rispettivamente al successo e al disastro nelle varie nei vari conflitti che noi analizzeremo facendo già un po di spoiler dato che si tratta di un argomento monster come direbbero i nostri colleghi anglosassoni è risultato impossibile nella preparazione della live di stasera optare per parlare di tutto in una volta sola perché è veramente e sono eventi talmente incommensurabili che meritano una trattazione dettagliata per moduli per cui nella serata di oggi di comune accordo faremo una sorta di panoramica complessiva a volo d'uccello e nelle prossime due serate fino alla fine del mese faremo dei focus relativi alla guerra aerea e poi alla guerra corazzata questo ci permetterà anche di recuperare argomenti che voi ci ci segnalerete perché comunque è interessante sviscerare questi eventi fin dove possibile ciò che noi faremo in queste puntate verrà poi replicato in futuro con la guerra dello Yom Kippur che è l'altra grande guerra arabo-israeliana che è più seguita oltre a pratica è una puntata generale su tutto lo scenario con introduzione anche di tutti i personaggi una puntata specifica sulle scontri terrestri quindi battaglie per battaglia in maniera specifica e una sugli scontri aere in maniera molto specifica perché questo si può raccontare anche molto aneddotistica su su quello che è successo quindi è una trilogia per sulla guerra dei sei giorni e una tipologia sullo Yom Kippur che poi verranno integrati in una singola diciamo un singolo cofanetto di playlist di sei puntate per un totale di non lo so 20 ore di divulgazione tipo maratona del signore degli anelli no in questo senso detto questo cari ascoltatori ascoltatrici se come si dice in questi casi l'appetito viene mangiando e questi argomenti dovessero interessarvi e voi ci doveste chiedere anche di applicare un'analoga strategia anche per altri conflitti arabo-israeliani come la guerra dei sei giorni una molte richieste ai rani iran iraq o anche la guerra quello che volete basta semplicemente che scriviate 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 perché e chiedete perché vi darà scusate vi verrà dato chiedete vi verrà dato tranquillamente nei tempi necessari per preparare queste cose perché comunque credo che adesso possiamo anche annunciarlo Mirko noi da adesso in poi inizieremo una collaborazione non più saltuaria ma continuativa con l'introduzione poi anche di due nuovi formati uno relativo ai mezzi militari in cui nome ancora non abbiamo deciso se avete idee proponetele saranno schede su singole mezzi quindi il tiga e tutto il resto diciamo e l'altro invece il cui titolo il cui nome già ce l'abbiamo che si chiamerà truppe d'elite e il quale affronterà invece singole unità o singole forze armate o servizi segreti o operazioni di servizi segreti o truppe speciali e quant'altro del passato e del presente e questo ci permetterà di ampliare ulteriormente il paniere di offerta a vostro personale uso e consumo lo scopo finale del fed maresciallo come mi ho detto alcune settimane fa e quello di arrivare a fare dieci live al mese non so se fisicamente riusciremo però pian piano iniziando possiamo anche con il vostro sostegno la vostra partecipazione arrivare a tale traguardo detto questo io ho finito la mia introduzione come ultima cosa e tornando alla prima cos'è cosuccia che ho detto evitate di saturare la tanto io non la guardo però evitate per per rispetto verso mirko e per rispetto verso anche gli altri ascoltatori ascoltatrici di saturare la sezione commenti con slogan politici tipo free palestine o am israel high domande fuori luogo sull'ucraina eccetera esatto perché stiamo parlando d'altro allora introduzione perché ovviamente per capire perché questi si amano e si odiano bisogna partire lasciamo perdere la storia più antica lì c'è una vecchissima live che ho fatto con lorenzo di incontri di storia dove abbiamo parlato dei rapporti con gli arabi e i tedeschi durante la seconda guerra mondiale che erano particolari comprese alcune visite da quindi andate a recuperare quella se volete pescare cose più vecchie quindi partiamo dal 48 cioè la guerra di indipendenza israeliana dove praticamente una coalizione di nazioni arabe a un certo punto aveva lanciato un'invasione che è fallita del nascente stato ebraico fatto stato ebraico che era armato dagli inglesi da rimasulli di cose anche portate dall'europa e questa è praticamente la prima guerra arabo israeliana ecco la seconda è quella della famosa crisi suez che con la nazionalizzazione del canale inglesi e francesi tentano uno sbarco che poi è finito male anche per diciamo una chiamata americana a ritiro rispetto a questa cosa infatti è molto controverso è questa forza un giorno faremo una puntata anche su quello e perché c'è nasser nasser che è un personaggio molto importante soprattutto per i cristiani prima di questa guerra che sarà estremamente fallimentare forse uno dei fallimenti militari più epocali del ventesimo secolo la cosa interessante è che lui però era visto come un eroe perché era riuscito a nazionalizzare il canale a sconfiggere tecnicamente francia inghilterra e anche israele che voleva approfittarne e quindi ci troviamo tra la fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60 dove mediamente c'era una certa calma in questione non si erano combattuti però la situazione politica era abbastanza diciamo con i nervi e fior di pelle un po da tutte le parti i leader arabi ovviamente erano molto addirati per le sconfitte militari soprattutto per centinaia di migliaia di profughi palestinesi che aveva generato la vittoria di israele nel 48 e quindi hanno cominciato a accumulare forze con un progetto panarabo praticamente perché doveva essere coinvolta l'arabia saudita il libano la giordania la siria l'egitto e anche l'algeria alcuni rimasero poi fuori o parteciparono molto poco come il libano vennero colpiti parzialmente anche dagli israeliani quindi l'origine qual è è una controversia sui confini cioè ovvero una questione di acqua letteralmente di acqua e si torna al discorso dell'acqua dove praticamente i siriani tentavano di divergere il corso di alcuni fiumi che passano dalle alture del golan e che invece gli israeliani usavano per attingere per diciamo rendere più fertili le terre e quindi installare più più israeliti e a discapito ovviamente dei palestinesi e in questi anni per gli anni 50 e 60 i paesi arabi sostenevano la guerriglia palestinese soprattutto la siria che è il paese che era più odiato dai dagli israeliani perché facevano un sacco di anche attacchi di confine parte c'erano anche milizie siriane che partecipavano insieme ai palestinesi insomma le scaramucce peggiorano nel 67 ok dopo che israel e siria praticamente hanno un piccolo scontro aereo e di artiglia e furono distrutti sei caccia siriani questo è una delle scintille più grosse sulla scia di questa cosa l'unione sovietica fornisce informazioni false soprattutto all'egitto ovvero quello che israele stava spostando 12 13 battaglioni sul confine settentrionale con la siria in preparazione di un'invasione diciamo di vasta scala l'informazione era falso quantomeno estremamente imprecisa ma comunque spinse il presidente egiziano nasser all'azione e a organizzare tutta questa cosa diciamo che quello che succede che in dimostrazione sostegno sui alleati siriani ha ordinato le forze egiziane di avanzare nel per l'isola del sinai e si comincia praticamente a dare forma diciamo a questa azione fra l'altro lì viene espulsa la forza di interdizione delle nazioni unite che aveva sorvegliato il confine per un decennio e quindi qui le tensioni si intensificano diciamo che nasser continua a voler tirare su questo sconto e cosa fa bandisce le navi israeliani dallo stretto di tiran praticamente non permette il passaggio c'è un piccolo stretto vediamo se riesco a trovare una mappa per farvelo vedere c'è un piccolo stretto a sud qui che è fondamentale perché c'è il porto di Aqaba che è famoso anche se seguite no lo resta rabbia no perché è quello che poi andrà a conquistare dai turchi morale si comincia a creare una stretta rispetto ad israele israele a questo punto si rende conto che qui manca poco fallato tutto questo in accordo con il re hussein di giordania poi presenteremo tutti i vari personaggi con dettoriarsi di questa situazione praticamente il presidente americano lyndon johnson mette in guardia tutti quanti e comincia a dire attenzione no a quello che state facendo e cerca di tirare su se ricordo un'operazione internazionale per riaprire lo stretto praticamente non si concretizza il piano e quindi i leader israeliani votano per contrastare il rafforzamento militare arabo decidendo di lanciare un attacco preventivo questa è una tecnica napoleonica tra l'altro perché se ti trovi nel mezzo con tanti avversari la cosa migliore è colpire il più forte più velocemente possibile e questo era un po il piano israeliano perché ovviamente avevano un rapporto di forze estremamente limitato rispetto agli avversari cioè dal punto di vista numerico quegli altri avevano 2.500 carri armati e più o meno gli israeliani 800 850 poi diverge dalle dalle fonti fatto molti dei carri armati che avevano gli israeliani erano centurion centurion anche abbastanza particolari qui racconto un piccolo aneddoto che sicuramente interessante durante la la rivoluzione in ungheria viene catturato un t 54 ora si mi pare che fosse un t 54 non un 55 che finisce consegnato diciamo dagli insorgenti a a delle forze di spionaggio inglesi che analizzano il carro e scoprono che i centurion con i 20 pounder no non riescono a bucarlo e quindi li sviluppano poi il cannone l7 che arriverà ad essere utilizzato addirittura sulle prime versioni dell'abrams no cioè il 105 problema è che i centurion invece che furono dati agli israeliani erano quelli con il 20 pounder che era quello da 83,4 millimetri che non aveva grandi capacità di buccare un t 54 quindi gli israeliani si trovavano con dei carri tecnicamente inferiori solo che erano molto addestrati sul tiro a distanza e soprattutto non usavano vecchie tattiche come poi vedremo hanno utilizzato lì di design era molto più statici ecco sul sul combattimento e avevano anche dei vecchi sherman fatto gli sherman modificati con i cannoni francesi insomma delle cose abbastanza arrabattate diciamo no e qualche patto no c'era anche sono scordo circa 300 patto il vantaggio che avevano gli israeliani era l'abiazione e in questo che loro hanno fatto scuola e sono riusciti poi lo vedremo a distruggere le forze egiziane praticamente a terra per tutta una serie di eventi erano a colazione il comandante saggiamente non come balbo ha dato ordine di non sparare perché non si fidava neanche dei suoi tanto che sarà in fase di atterraggio proprio mentre avviene l'attacco israeliano parlato ho letto il racconto proprio di uno dei piloti della prima squadriglia che erano in quattro che racconta che mentre era lì che faceva strafing cioè stava sparando sulla pista vede a terrare questo cos'era un antonov 12 se ricorda e il suo ordine era pro distruggere ieri i mig non quello e quindi non li ha sparato tecnicamente avrebbe potuto uccidere il generale quindi è interessante il fatto che abbia seguito gli ordini ma forse ha fatto bene nel senso che comunque in quella guerra la prestazione del maresciallo hamer fu talmente diciamo di bassa lega che salvandogli la vita probabilmente quel disastro quel pilota israeliano ha aiutato ulteriormente lo sforzo bellico del suo paese no io volevo correggere solo una piccola cosetta che hai detto eh Mircone perché quando hai parlato degli eh dei centurion israeliani allora eh sì è vero che originariamente i centurion israeliani erano stati forniti con il ehm il cannone originale e il cosiddetto 20 pounders eh che era circa 84 mm più o meno 83,4 ecco ecco usando la nostra il nostro sistema di misurazione però però ehm all'epoca della guerra dei sei giorni la stragrande maggioranza la gran parte diciamo o comunque una buona parte dei eh centurion israeliani erano già stati dotati del 105 quello che però avevano ancora di originale era il motore e infatti i centurion israeliani modificati con il shot cal abcd da 105 ma ancora con il motore originale venivano chiamati shot meteor dagli israeliani quando poi lo dico lo shot meteor è ancora all'83,4 no non è vero lo shot meteor ha già il 105 lo shot meteor diventa shot cal quando anche cambia il motore ma il 105 il cannone era già stato cambiato in un 105 da quello che risulta a me avevano ancora 83,4 allora c'erano c'erano ancora dei un certo numero di centurion che avevano ancora il canone originale ma il le modifiche erano già incominciate non avevano però ancora toccato i motori ed era la ragione per cui molto spesso in i centurion israeliani avevano difficoltà a operare nel contesto desertico perché le ventola dei motori si ingolfavano di sabbia ed è la ragione per cui il generale israel tal che divenne poi uno degli eroi della guerra della guerra dei sei giorni e non solo introdusse all'interno dell'israeli armored corp del corpo corazzato israeliano tutta una serie di diciamo variazioni nelle prassi di addestramento e di manutenzione in modo da far alzare il numero la percentuale di centurion che fossero contemporaneamente e contemporaneamente operativi e difatti il centurion in poco tempo si trasformò dalla bestia nera dei caristi israeliani odiato e disprezzato nel beniamino della forza corazzata e addirittura i genitori che portavano i figli questo però credo fu dopo la guerra dei sei giorni i genitori che portavano i figli alla visita di leva e in israeli ricevevano poi notizia che essi erano stati assegnati al corpo corazzato si premuravano che gli ufficiali li destinassero ai reparti dotati di centurion perché e costituivano nel diciamo nell'immaginario collettivo una sorta di assicurazione sulla vita dei loro giovani figli aveva un altro vantaggio enorme il fatto che aveva molta depressione e lì è un terreno estremamente ricco di colline quindi potevano fare la tecnica dello praticamente sbucare a ridosso no di una collina sparare tornare indietro cosa che i t54 non possono fare altro problema e sono molto più comodi da utilizzarci ci mangi ci fai un picnic cosa che non fai dentro tanti 54 e che notoriamente avevano anche grossi problemi di aereazione all'interno non è non è un cari cari sovietici non sono adatti per l'ambiente desertico dobbiamo dobbiamo dirlo e riconoscerlo qui c'è la comparazione delle forze come si vede è sproporzionata la sproporzione di uomini è epocale considerando anche che legge l'israele si doveva difendere da tutti i lati il seriano giordano egiziano perfino con quello con libano e quindi poteva dedicare soltanto una parte delle proprie forze alla fine aveva 700 800 carri armati i numeri divergono parecchio perché c'era anche un po di fritto misto di roba vecchia modificata però con questa sproporzione di forze riescono a sorprendere gli eserciti vediamo anche i piani no dei vari esami no che tu non vuoi commentare la sproporzione di forze di per sé sì no allora posso dire due cose allora prima di tutto io non vi darò in questa occasione forse neanche nelle prossime dei numeri precisi come mi piace fare di solito nelle live in cui sono presente per un semplice fatto se noi consultiamo le varie fonti a disposizione e vi sicuro ragazzi che lo abbiamo fatto ne abbiamo consultate veramente di diverso tipo 250.000 270.000 300.000 si capisce nulla ho preso questa perché era quella più mediana ma va benissimo va benissimo no però ci sono appunto cioè che i nostri ascoltatori apprezzino questo fatto ci sono delle differenze da fonte a fonte che sono notevoli e alcune volte è veramente difficile fare la quadratura anche perché certe cose in quei paesi e parlo sia di israele che dei paesi arabi sono ancora segreto militare cioè poi sono forze sulla carta cioè nel senso non tutte sono state schierate sono forze nominali potenziali poi molti paesi non riusciranno nemmeno a portarli in linea perché finirà tutto molto velocemente sulla carta diciamo potenzialmente questo era lo scenario che si prospettava e da questo deriva il pensiero strategico israeliano dal dal punto di vista meramente numerico sì anche se c'è da dire una cosa che nei rapporti dei servizi segreti sia di della stessa israele e che della gran bretagna e degli stati uniti d'america era messo ben chiaro per iscritto che tenendo anche conto delle problematiche di comando e coordinamento dell'addestramento e di tutto il resto israele comunque era in netto vantaggio rispetto ai paesi arabi nessuno nelle stanze del potere e nelle stanze dei decisori militari in israele in occidente riteneva veramente che gli arabi potessero prevalere nel 67 nella guerra dei sei giorni perché c'erano tutto una sé le forze arabe chi più chi meno perché poi si parla di forze arabe in generale ma l'egitto la giordania la siria l'irac parlo del dei paesi che sono stati veramente poi coinvolti sul terreno presentavano al loro interno delle differenze notevoli anche di vedute strategiche di difficoltà di comunicazione e si coordinarono malissimo la partenza perché se avessero attaccato da tutti i lati in contemporanea sarebbe stato ben differente c'era proprio una diciamo idiosincrasia totale nelle direzioni generali di attacco e nelle tempistiche di attacco però sì diciamo che per concludere questa parte possiamo dire che dall'una dall'uno schieramento dall'altro c'era tanta tanta roba ecco diciamo così e e questo comunque nonostante le loro debolezze la quantità di mezzi a disposizione dei paesi arabi era tale per cui decisori politici e militari israeliani non potevano prendere considerare il tutto con leggerezza detto questo bisogna altresì specificare che israeli si era preparato alla guerra si era preparata alla guerra per anni il piano circa dieci dieci anni sì sì il piano moched l'attacco aereo preventivo del quale parleremo più in dettaglio in una delle prossime live stream era frutto diciamo della pianificazione del precedente comandante dell'aeronautica israeliana ezer weizmann e di colui che era a quell'epoca della guerra dei sezioni il comandante il generale hod era un qualcosa che era stato pianificato provato e riprovato decine e decine di volte e i piloti israeliani avevano imparato anche la planimetria delle basi aeree dell'egitto della giordania della siria come le preghiere per cui non era assolutamente cioè il gesto israeliano di attacco preventivo non è stato assolutamente una manovra disperata i piani c'erano e la macchina era stata ben oliata e ovvio che per una tenuta del fronte interno della popolazione e del supporto all'azione governativa come se non ce ne fosse bisogno e la leadership israeliana aveva anche in qualche modo questo è stato anche ammesso a posteriori dagli israeliani stessi coltivato una sorta di paura per quello che poteva essere l'esito di un attacco concentrico dei dei degli arabi nei confronti nei confronti di israel però andiamo a vedere i piani ma qua ci chiedono quale ruolo ha avuto la marina beh c'era un piano algerino di intervento con la flotta che poi visto l'andazzo non è riuscito cioè non è nemmeno partito però c'era era contemplato nei piani degli arabi ma un aiuto congiunto algerino con aerei i navi insieme alla marina egiziana che poi non è mai non è mai partito quindi secondo altri paesi volevano partecipare compeso l'iraq che praticamente non prenderà parte se non qualcosina con l'aeronautica perché finisce tutto così velocemente che l'impiego di altri paesi più distanti che volevano partecipare visto l'andazzo si sono dati alla macchia diciamo allora rispondo alla domanda per mia parte per quanto riguarda israele che mi è più facile poi passo agli arabi e la marina israeliana in quel periodo ha in occasione della guerra dei sei giorni ha attuato una postura chiamiamola così difensiva anche perché nulla di più era a lei richiesto l'unica azione offensiva importante in terra nemica che la marina israeliana ha portato avanti è stato lo sbarco a sharm el sheik la marina israeliana aveva ricevuto l'ordine assieme alle forze aviotrasportate di prendere il controllo di sharm el sheik e rompere il blocco dello stretto di tiran detto questo la zona di sharm el sheik nonostante la sua importanza strategica era assai poco difesa dagli egiziani e la marina israeliana ebbe gioco molto facile in realtà a prendere il controllo di di quel lembo di terra tant'è che si rese sostanzialmente inutile il previsto avio sbarco dei paracadutisti israeliani nel piano originale i paracadutisti israeliani avrebbero dovuto lanciarsi in contemporanea allo sbarco della marina fatto lo dico scusa pochi lo raccontano ma dovevano partecipare anche il marocco il sudan e anche il kuwait sì 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 è vero la libia il sì allora concludo questo quindi questo fu l'apporto della marina israeliana nella zona del mar rosso nella zona del mediterraneo la marina israeliana attuò una postura strategica rigidamente difensiva le uniche due azioni offensive che la marina israeliana portò a compimento nel mediterraneo furono un tentativo di attacco mediante gli incursori di marina il cosiddetto saieret 13 al porto di alessandria per attaccare la flotta egiziana in porto un po' sulla falsa riga di quello che avevamo fatto noi italiani durante la seconda guerra mondiale grazie durante la seconda guerra mondiale e nei confronti della flotta britannica però però in questa occasione e solo in questa durante tutta la guerra gli israeliani si fecero trovare pronti e riuscirono ad acchiappare tutti gli incursori di marina israeliani che conclusero la guerra come prigionieri inoltre le motovedete della marina israeliana assieme all'aviazione israeliana attaccarono nel quarto giorno di guerra se terzo quarto giorno di guerra la nave americana uss liberty che incrociava proprio nelle acque antistanti l'egitto e israele e stava portando avanti una missione di spionaggio ora questo evento è particolarmente interessante ma se volete ne possiamo anche parlare magari verso la fine della puntata perché questo apre anche tutta una serie di scenari inediti e sui quali gli storici hanno iniziato a investigare solamente negli ultimissimi anni se volete ne possiamo parlare allora parliamo del piano arabo del piano egiziano piano araba era un attacco congiunto teoricamente coordinato da più parti i siriani ovviamente dall'altura del gola nella giordania doveva convergere verso il mar nero cioè il mar morto scusate il mar nero ormai io sono capito fissato lì con la mente dovevano praticamente tagliare il golfo da entrambe le parti c'era una manovra concentrica ovviamente il grosso dello sforzo toccava gli egiziani attraverso ovviamente il sinai se non fosse che gli israeliani sapevano esattamente tutto tanto perché avevano le spie infatti c'era una spia in un accampamento aeronautico egiziano tanto che gli israeliani sapevano a che ora facevano colazione i piloti egiziani scelsero di attaccare esattamente all'ora di colazione quindi si erano studiati anche le abitudini degli avversari questo era il livello in cui erano maniaci gli israeliani riguardo il livello informativo interessante sì sì ma il 90% delle battaglie o delle guerre sono vinte prima ancora dell'esplosione del primo colpo proprio perché una delle due parti cura l'aspetto di intelligence assai più dell'altra lo abbiamo visto la volta scorsa se ti ricordi Feldmar e Schallo quando abbiamo parlato di Kursk la battaglia di Kursk era già persa in partenza per i tedeschi perché i sovietici grazie al loro spionaggio e alle informazioni passate dagli inglesi sapevano esattamente magari non con tutti i dettagli come invece gli israeliani con gli egiziani però sapevano cosa aspettarsi e gli hanno sbarrato la porta in faccia nel caso della guerra arabo-israeliana del 1967 la sproporzione è ancora più palese perché da un lato sì dalla parte egiziana già hai detto gli israeliani si erano infiltrati persino nelle basi nelle egiziane nel caso invece siriano erano riusciti anni prima a piazzare colui che è stato uno dei più importanti agenti segreti della storia israeliana è Eli Cohen quasi nel governo della Siria anche se all'epoca della guerra arabo del 67 lui era già stato scoperto e poi ucciso quindi la sua parabola terrena era già conclusa ma negli anni precedenti la sua attività spionistica peraltro riassunta anche molto bene nella serie di netflix con Sasha Baron Cohen e lui era riuscito che gli assomiglia tantissimo oddio non proprio però ma è stato bravo devo dire la verità è stato veramente bravo in quell'interpretazione e sono riusciti a ricostruire bene gli scenari medio orientali di quegli anni e le atmosfere di quegli anni anche girandolo un po' quasi bianco e nero in chiaro scuro l'hanno fatto veramente bene da dove derivò la scarsissima organizzazione tra eserciti arabi da dove comincia? allora in realtà in parte è una rigidità mentale c'è una tendenza nei paesi arabi a non fidarsi dei militari quindi spesso vengono scelti più per ragioni politiche che ragioni di successo questo succedeva molto nell'esercito iracheno in parte è dovuto a dottrine sovietiche hanno adottato le dottrine sovietiche che mal si applicano a questo genere di environment diciamo e in parte il fatto che si attengono a dottrine molto statiche la tecnica egiziana era arrivare in un punto piazzarsi interrare i carri e aspettare praticamente infatti nella maggior parte dei casi le truppe israeliane che si muovevano con la tecnica del carro che spara quello che avanza quello che spara quello che avanza tendevano a prenderli ai fianchi erano molto fissati sulla missione che gli veniva data poca attitudine all'improvvisazione alla libertà di comando credo che ce l'abbiano tutt'oggi questo genere di di problema corruzione perché anche urca quella è brutta diciamo una cosa per il nostro per l'ascoltatore che ci ha fatto questa domanda la prima cosa che bisogna fare quando si parla delle guerre arabo-israeliane è evitare la generalizzazione della serie gli arabi non sanno combattere gli arabi qui gli arabi là ricordiamoci una cosa i paesi arabi esistono come paesi indipendenti da poche decine di anni quindi è anche quello nel senso non hanno una storia come la nostra di esperienza dove hanno potuto sviluppare l'onda hanno adottato quella delle altre che magari non sono andate al terreno né al nemico esatto gli arabi per centinaia di anni sono stati soggetti di altri paesi cioè la grande tradizione militare araba che ha fatto tremare il mondo risale al periodo medievale durante il periodo dell'espansione del califato ai danni dell'impero persiano sassanide dell'impero romano d'oriente poi anche dei visigoti delle popolazioni berbere eccetera gli arabi sono stati dei veri e propri fulmini di guerra hanno rivoluzionato la anche la storia della 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 guerra antica poi della guerra medievale le loro tradizioni poi sono state ulteriormente rinverdite durante il periodo delle crociate però poi successivamente i territori che furono il grande califato arabo vennero pian piano conquistati da popolazioni turche e poi da anche nel periodo coloniale anche dai paesi europei quindi agli arabi è mancato un grande periodo fondamentale della storia militare dell'umanità in cui essenzialmente loro sono stati soggetti di altri e hanno in qualche modo ricevuto in faccia quello che altri hanno creato cosa che invece non è capitata per esempio ai turchi che hanno avuto hanno potuto invece attraverso vittorie sconfitte rinverdire continuamente le loro tradizioni militari fino ad oggi ovvio che uno direbbe e vabbè ma la stessa cosa vale per gli ebrei no perché gli ebrei dall'epoca napoleonica in poi nei paesi europei sono diventati parte integrante e soprattutto della classe ufficiale un esempio in una live con Giovanni Ciacini raccontammo che il comandante dell'artiliria che diede l'ordine di aprire la breccia di Portapia era ebreo esatto esatto c'è il famoso statuto albertino dove vengono date tutte delle libertà anche a loro per quanto riguarda l'esercito italiano eccetera far l'altro lo vedremo quando finiamo ora i piani poi cominciamo a parlare dei personaggi e poi torneremo alle varie battaglie si noterà che la maggior parte dei comandanti israeli o hanno combattuto con gli inglesi nella seconda guerra mondiale o hanno combattuto nella prima guerra mondiale o erano in Germania o hanno combattuto nell'esercito russo in quello polacco insomma sono tutti veterani sì ma infatti durante la guerra durante la la guerra di indipendenza è vero che gli israeliani combattevano con le pezze al culo perché erano nell'atto di costruire le strutture delle loro forze armate non erano neanche delle divise ma erano comunque tutti quanti una grande esperienza di combattimento o nelle forze alleate o nell'esercito sovietico laddove la partecipazione degli ebrei e sovietici nella seconda guerra mondiale per ovvie ragioni fu massiccia assai massiccia è vero che ci furono anche contingenti arabi che parteciparono alla seconda guerra mondiale dalla parte alleata però si trattava di in qualche modo manovalanza cioè dalla parte araba non era ancora cresciuta quella elite militare che doveva dare in qualche modo struttura alla forma albeide quindi gli arabi seppur tanti e si ritrovarono in una situazione completamente non congeniale a quelle che erano le loro possibilità c'è anche una difficoltà intrinseca nel coordinare tanti paesi con obiettivi strategici diversi visioni anche tattiche diverse perché per esempio l'esercito giordano era uno dei più piccoli ma era anche uno dei meglio addestrati perché hanno sempre avuto una cultura militare ancora oggi la Giordania è praticamente un mega show militare se racconta poco ma ogni anno lì avviene un grandissimo show di presentazione di produttori militari tra cui c'è anche l'anorinco cinese eccetera quindi nonostante sia un piccolo paese ha sempre avuto un esercito abbastanza efficiente per il peso specifico diciamo esatto e infatti la legione araba che fu il capostipite delle forze reali giordane di oggi che fu creata e addestrata dagli inglesi negli anni 20 e 30 del ventesimo secolo fu tra gli eserciti arabi quello che durante la guerra di indipendenza israeliana ottenne i risultati migliori di fatti la Giordania riuscì durante quella guerra anche grazie al contributo iracheno a staccare via tutto quel pezzo di terra che noi in italiano chiamiamo Cisgiordania in inglese viene chiamato West Bank in Israele chiamano Giudea e Samaria però vabbè quel territorio lì i territori palestinesi chiamiamoli così e non solo se voi guardate lì vicino a Gerusalemme c'è un luogo chiamato Latrun ecco Latrun divenne durante la guerra arabo-israeliana del 1948 49 una sorta di Bakhmut chiamiamola così per gli israeliani e per i giordani con la differenza che mentre Bakhmut alla fine i russi l'hanno espugnata nella guerra arabo-israeliana del 48 49 gli israeliani nonostante i ripetuti tentativi a testa d'ariete non riuscirono mai ad espugnare quella cittadina e quel forte la legione araba giordana difese Latrun con le unghie con i denti e vi dirò di più se noi contiamo le perdite israeliane di quel conflitto che furono circa 6.000 tra militari e civili ben mille vennero persi a Latrun quindi quello divenne veramente per gli israeliani un campo santo a cielo aperto ed è anche una delle ragioni per cui già non appena Israele e la Giordania incrociarono le corna durante la guerra del 67 gli israeliani come prima cosa che feciò fu di investire Latrun con tutte le forze che avevano a disposizione per togliersela dalle scatole immediatamente anche perché era situata molto vicino all'autostrada che collegava Tel Aviv viafo e Gerusalemme passava proprio lì vicino quindi da lì i giordani potevano minacciare da vicino questa arteria importante e questo mi permette di finalmente poter parlare dei piani che era quello che volevo fare ora per quanto riguarda i piani militari dell'una e dell'altra parte io partirei da quelli israeliani perché sono quelli più dettagliati e anche quelli più comprensibili a un occidentale come me il piano israeliano era molto semplice allora in uno scenario di guerra difensiva chiamiamola così perché comunque gli israeliani erano stati portati per optare per la guerra da tutta una serie di mosse sullo scacchiere internazionale che gli arabi avevano fatto e che Mirko ha riassunto prima gli israeliani decisero di attaccare per primi ora secondo l'idea del ministro della difesa Moshe Dayan che era da poco entrato nel governo di unità nazionale del primo ministro Levi Eshkol gli israeliani dovevano dare precedenza al nemico più grosso e più pericoloso cioè ecco questa è una foto questo era Levi Eshkol primo ministro di israel all'epoca della guerra dei sei giorni e al quale la vittoria non giovò molto perché infatti poco tempo dopo perse il controllo della coalizione di governo che lo sosteneva Levi Eshkol era un kibbutzim veniva dalle file dei kibbutzim sì in realtà kibbutzim che fornivano la l'ossatura chiamiamola così della elite israeliana sia politica che militare e dal nord del del paese qui lo vediamo in una aspetta torna prima ecco qui se non sì ecco qua allora qua lui è raffigurato assieme a Begging che era il capo della invece della destra della destra israeliana Eshkol invece come la la totalità praticamente dei degli statisti israeliani della prima parte della della storia dello stato di israele veniva invece dal settore della della sinistra che era dominato dal mapai l'equivalente se vogliamo fare un parallelismo con l'Europa potremmo dire del partito laburista inglese più o meno non è che è sempre difficile fare parallelismi tra i partiti politici israeliani e quelli europei però se proprio vogliamo farlo allora quello lo è costui invece Moshe Dayan il diavolo dall'occhio solo come lo chiamavano gli arabi sui nemici arabi veterano del conflitto del secondo conflitto mondiale durante il quale egli prestò servizio nella brigata ebraica creata appunto dagli inglesi chi è il suo mentore Ord Wingate e qui ti volevo è interessante che quest'uomo abbia preso tutto quello che sapeva da Ord Wingate dice molto dice molto si torna a discorso perché gli italiani avevano un vantaggio guardate con chi avevano a che fare e da chi avevano appreso gli arabi dovevano imparare tutto da zero praticamente quindi c'è un pregresso c'è un pregresso che ha un suo peso se vogliamo spendere due parole su Ord fallo pure a te così ti do spazio guarda è interessante soprattutto per il discorso che oltre a lui c'è anche un altro che viene poco menzionato perché era giovane era capitano all'epoca anzi forse luogotenente cioè Avigdor Kalani che parteciperà ai primi assalti quelli sulla fascia di Gaza che poi andranno a finire nei villaggi quindi è tutta una serie di comandanti che hanno avuto come maestri dei personaggi di un certo livello personaggi che si occupavano di spionaggio personaggi che si occupavano di intelligence personaggi che conoscevano già i paesi arabi perché erano già stati in Egitto avevano già avuto a che fare addirittura con i sinussiti per dire quando i sinussiti chiedevano aiuto agli egiziani quindi è come se gli egiziani avessero come se gli israeliani avessero assorbito come una spugna tutto quel pregresso di intelligence che ovviamente gli inglesi avevano e anche i francesi rispetto a questi paesi che erano stati loro colonie uno va a vedere i tracciati insomma dei vari accordi territoriali ci si rende conto che sono stati disegnati in una mappa e qui c'è la tipica battuta inglese metà dei problemi del mondo li ha disegnati un inglese su una mappa che è abbastanza vero se mi concedi una battuta Mirko anche se qua usciamo solo un sema per un minuto dal sensato però io ogni tanto qua faccio un po' di tra le due filosofia trovo esilarante il fatto che ancora oggi sia gli israeliani che i vari arabi si odiano a morte questo lo sappiamo e sbattono la testa gli uni con gli altri ma attorno a confini che noi europei abbiamo disegnato per loro cioè loro in tutti questi anni al di là del petrolio gli arabi al di là dell'hightech israeliano è non sono ancora riusciti a fare il salto mentale di emanciparsi da confini che noi abbiamo fissato per loro e nonostante il fatto che noi non siamo più lì presenti comunque lo spirito del colonialismo dell'imperialismo europeo continua a dominare immanente su quelle lande cioè non è venuto fuori fino ad oggi nessun statista che si rispetti o nessun analista israeliano dei vari paesi arabi che sia riuscito a concepire una mappa di quei territori diversa da quella che questa è una cosa che mi ha sempre sorpreso il fatto che loro non si siano mai messi accordi di dire questi sono dei confini tracciati da altri mettiamoci d'accordo facciamo dei confini più logici ecco diversi diversi non si sono mai messi d'accordo su questa cosa comunque per far capire su su ord perché è abbastanza interessante era comandante delle night squad cioè delle squadre notturni ed era molto filo sionista a lui già aveva avuto a che fare aiutò soprattutto gli israeliani all'inizio contro i palestinesi e nel suo pregresso c'è anche che faceva parte dello stato maggiore di Wavel nella seconda guerra mondiale quindi era uno che aveva molto a che fare con soprattutto con quel tipo di scenario e gli israeliani hanno attinto a piene mani dalla sua esperienza quindi è normale che uno come Moshe Dayan è diventato quello che è diventato con un maestro di questo tipo no? e beh impara l'arte e mettila da parte ma la cosa la cosa più indicativa da questo punto di vista se noi intanto lascia pure Moshe poi torniamo da lui se tu guardi alla Siria per esempio ecco la Siria aveva una forza armata che era stata creata dai francesi però le forze armate che la Siria ha ereditato dai francesi erano composte in massima parte da drusi alawiti cristiani delle varie confessioni e uno poi si stupisce che durante la guerra civile siriana e qua facciamo un salto di decenni e arriviamo anche a una live che hai fatto tu diversi mesi fa con il colonnello Cristodoro uno si stupisce del fatto che pur con tutta la loro superiorità numerica i sunniti musulmani sunniti non siano riusciti a prevalere neanche in una situazione di scontro totale come quello della guerra civile non hanno nessuna esperienza militare nessuna formazione esatto in un certo senso ricorda quell'ostracismo Juncker tedesco se non eri nobile non potevi accedere alle accademie eccetera era tutto relegato poi si è aperto un po' di più col partito BAT però questi due comandanti rimangono con la formazione quando nel 1963 l'8 di marzo del 1963 con la cosiddetta rivoluzione dell'8 di marzo il partito BAT tramite l'esercito arrivò al potere in Siria anche in quel caso la stragrande maggioranza degli ufficiali che portarono a compimento quel golpe appartenevano alla seta la vita e nel 1967 durante la guerra dei sei giorni i due uomini forti del regime siriano erano il generale Salah Jadid e il ministro della difesa Afez al-Assad che poi dopo dice qualcosa che poi nel 1970 sono arrivati i ferricorti e Afez al-Assad ha preso il controllo completo però anche in quel caso fu una lotta in famiglia chiamiamolo così in questa setta minoritaria i musulmani sunniti che fino a quel periodo detenevano le redini del potere ma avevano un'integrazione assai scarsa nelle forze armate del paese perché le consideravano lo consideravano una professione indegna quella del militare e poi dopo quando si è scoperto che chi aveva la pistola in mano comandava sono stati fregati dalle minoranze e questa è un'altra ragione per cui come chiedeva prima uno degli ascoltatori gli arabi hanno sempre avuto problemi di organizzazione se tra la fine della guerra di indipendenza israeliana e il colpo di stato di Assad nel 1970 ecco in quell'arco temporale lì la Siria ha visto dieci colpi di stato prima che la situazione si stabilizzasse e quindi non c'è da stupirsi che per tutto quell'arco temporale le forze armate siriane fossero assai più impegnate a contendersi gli ossi del potere che non ad addestrare le truppe a prepararsi per la guerra guarda voglio raccontare una piccola cosa perché tanto è uno di quei personaggi che inevitabilmente devi discutere a Victor Calani era piccolo all'epoca nel senso era un luogotenente poi arriverò al grado di capitano e ne parleremo grandemente nella guerra delle Yom Kippur però sempre per il discorso del tipo di formazione che hanno ricevuto questi lui ha frequentato il Command General Staff a Fort Leavenworth in Kansas quindi ci siamo capiti laureato in storia e in ingegneria meccanica quindi era uno che sapeva anche riparare i carri armati la cosa interessante è che in questo conflitto avrà un ruolo ovviamente minoritario perché era il comandante di una compagnia dentro alla settima brigata corazzata quella che si infilerà praticamente nel primo scontro lui era proprio sul primo carro e verrà ferito perché il suo Patton perché aveva i Patton lui i pochi Patton che avevano gli israeliani 300 mi pare forse qualcosa di meno sai la solita storia dei numeri che erano i carri migliori di cui erano dotati gli israeliani furono utilizzati subito nella punta di lancia per riuscire a sfondare lì quindi questo fa capire che lui ha un pregresso tanto che fu lui ad andare in Germania ovest a fare l'ispettore dei Patton che poi sarebbero stati consegnati nel 64 agli israeliani quindi questo per far capire che di ogni comandante di cui parleremo mediamente o hanno una formazione occidentale o hanno esperienze negli eserciti occidentali o hanno studiato in occidente questo addirittura ce l'ha tutte per dare un'idea quindi è normale che dall'altra parte ci sia un gap enorme c'è anche una difficoltà maggior parte degli israeliani parla inglese mentre per un egiziano beh avere un istruttore russo non è proprio la lingua più vicina che ti puoi trovare quindi anche tutti i manuali le cose eccetera comunque torneremo su lui quando andremo poi qui vorrei andare cerchiamo di andare non più di 5 minuti a personaggio perché sono veramente tanti però sono interessanti quindi vai pure sparato sì Isaac Rabin futuro primo ministro israeliano lui è stato primo ministro due volte dopo la guerra dello Yom Kippur e poi dopo negli anni 90 finché venne ucciso nel 1994 1994 a causa vabbè delle controversie relative agli accordi di pace rispetto ai quali una parte diciamo una parte importante dell'establishment di Israele era contraria però all'epoca della guerra dei sei giorni lui era il capo di stato maggiore delle forze dell'IDF dell'Israeli Defense Force le forze di difesa israeliane e fu lui tra virgolette il direttore d'orchestra che in qualche modo fu l'architetto della 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 vittoria israeliana lui assieme a Moshe Dayan e l'azzar e l'azzar fu vabbè Dado come lo chiamavano gli amici e l'azzar fu uno dei comandanti diciamo del lui aspetta lui gestiva il comando centrale sì ho un piccolo voto di memoria no 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 che cazzo dico scusa ho sbagliato e lui lui gestiva il comando nord il comando centrale era di Uzi Narkis mentre quello meridionale di Yeshayau Gavish lui aveva diciamo gestiva quella che era in qualche modo la cenerentola tra le tra gli schieramenti israeliani perché il fronte nord era quello che nella pianificazione originaria ricopriva era passivo l'importanza minore sì allora anche se la anche se la diciamo la crisi dell'acqua con la Siria era assieme alla chiusura degli stretti di tirancio che aveva fatto da propulsore in realtà per la guerra arabo-israeliana sì per la guerra dei sei giorni la pianificazione originale del piano di Moshe Dayan prevedeva prima di far fuori l'Egitto secondariamente se proprio ce n'era la necessità di venire alle mani con la con la Siria e no scusa con la Giordania e solo in ultima analisi in ultima istanza con la con la Siria certo è che i siriani se l'andarono a cercare perché durante i primi giorni di guerra durante i primi quattro giorni di guerra mentre gli israeliani erano impegnati con attaccavano i villaggi fra l'altro furono gli americani a mediare perché gli israeliani vorrevano arrivare a Damasco ed erano ben intenzionati di arrivare fino a lì finirla una volta per tutte punire i siriani volevano punire i siriani più di tutti almeno nominalmente perché furono quelli che cominciarono anche il discorso del nuovo olocausto perché venne fuori sta storia del nuovo olocausto rispetto agli israeliani quindi erano quelli militarmente meno rilevanti che dovevano essere colpiti dopo ma quelli che meritavano di essere puniti di più da un punto di vista almeno propagandistico ecco diciamo ma allora qua bisogna fare dei distinguo nel senso che allora questa cosa qua della mediazione della mediazione americana non la sapevo quindi mi cogli mi cogli impreparato ammetto che mi cogli impreparato furono gli americani a fermarli ma anche fermarli rispetto a Suez se ci fai caso tutte le linee di contenimento israeliani nonostante i successi poi tornano sempre indietro per evitare un acquirsi diciamo della situazione perché poi parterebbe una guerra continuativa che gli americani non avevano nessuna intenzione di continuare ad alimentare gli israeliani ricordiamoci che gli israeliani in molte fasi della loro storia si sono riforniti dai francesi dall'inglese a seconda di come andavano le situazioni dovevano cambiare il fornitore proprio perché magari il fornitore non era molto d'accordo con la politica israeliana vero verissimo no però allora questa cosa qua che gli americani avessero mediato anche per fermare gli israeliani sulla via di Damasco questa non la sapevo quindi ammetto ammetto apertamente di non saperlo che che però che però gli israeliani avessero il dente avvelenato con i siriani questo è senza dubbio vero anche perché lo hanno ammesso poi in tempi diversi i vari Rabin Dayan Sharon eccetera sulla questione del secondo locausto allora qua dobbiamo fare un po' la tara tra le dichiarazioni di intenti i comizi di piazza e le pianificazioni perché è vero i leader arabi in continuazione parlavano della necessità di arrivare fino a Tel Aviv con gli stivali sporchi di sangue i giornali arabi nel periodo soprattutto prima della guerra facevano vedere vignette satiriche che rappresentavano Israele come un uomo deforme che veniva impalato dai cannoni dei diversi paesi arabi circostanti eccetera eccetera però quando noi andiamo a vedere quella poca in realtà documentazione relativa alle reali pianificazioni militari arabi sul terreno ci rendiamo conto innanzitutto che i piani reali non le idee teoriche ma i piani reali da combattimento che gli arabi avevano messo su carta erano assai più modesti nella portata di quello che pensiamo difatti l'unica pianificazione veramente seria che per esempio gli egiziani avevano fatto era relativa all'occupazione del porto di Eilat con una forza corazzata al comando del generale Shazli ma il cosiddetto piano lion il piano leone che doveva portare a le forze egiziane e quelle giordane a congiungersi nell'area di Berceva e di Dimona il pozzo del giuramento in realtà era un piano molto teorico cioè sembra che non avessero mai fatto una reale pianificazione sbuca sempre fuori perché anche nella prima guerra mondiale c'è un famoso film su Birer Shiba il pozzo del giuramento dove praticamente la fanteria a cavallo australiana carica le posizioni turchi quindi è interessante vedere come delle situazioni orografiche si ripresentano sistematicamente no? Siamo ostaggi della geografia c'è poco da dirlo anche nell'era dei satelliti dei droni e quant'altro stessa cosa si può dire rispetto al piano Nasr che era il piano invece siriano bravo nella parte nord di attacco tra i due lati del lago di Tiberia o mar di Galilea chiamatelo come volete una guarda non sono riuscito a trovare la mappa che avevano fatto gli arabi di spartizione del territorio cioè secondo gli egiziani loro volevano arrivare a Birshiba prendersi quella fetta lì prendersi ovviamente i porti e gli altri si sarebbero spartiti il resto un pezzettino a Libano vicino a Den la Siria si sarebbe presa a Haifa per avere lo sbocco sul Mediterraneo c'era un piano di spartizione diciamo di Israele che va pari passo ovviamente la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi e quindi ognuno andava in direzione della fettina che si voleva prendere ovviamente nessuno ha chiesto nulla ai palestinesi di cosa ne pensavano della situazione nominalmente era una guerra per loro poi ognuno in ogni caso sarebbero stati stavo per usare una parolaccia l'avrebbero presa in quel posto in ogni caso nella vittoria nel caso della vittoria dell'uno dell'altro i Giordani invece i Giordani erano gli unici che avevano avevano un piano preciso però solamente per la conquista di Gerusalemme avevano avevano praticamente il piano di eliminare quel saliente che si vede lì dalla truna a Gerusalemme e che si incuneava quasi a spezzare il loro pallino già dal 48 esatto ci hanno sta fissi esatto l'unico piano serio militare che era stato invece pianificato in ogni minimo dettaglio era quello era quello dei Giordani per eliminare quel ditino lì di territorio israeliano piano che peraltro venne cassato dagli egiziani cioè nel comando unificato il comando unificato arabo che era ad Amman che era la cui posizione di responsabilità era ricoperta dal generale Munir Riad inviato lì da Nasser decise di cassare quel piano che era l'unico piano serio che gli arabi avevano fatto a dire la verità però Munir Riad cercò di consigliare bene Re Hussein di Giordania perché conscio di quelle che erano le reali la reale situazione dell'esercito del suo paese nativo lui consigliò invece Re Hussein di adottare una politica puramente una postura puramente difensiva perché fece capire a sua maestà il re Hashemita e disse maestà il suo paese non ha forze sufficienti per condurre una guerra offensiva nei confronti di Israele e io personalmente non sono sicuro che il mio paese sia in grado di adempiere alle promesse fatte a sua maestà quindi è meglio che lei si limiti a difendere la Giordania e infatti la postura dei dei giordani durante quella guerra nei loro piani era difensiva e loro volevano aspettare l'arrivo delle forze corazzate irachene che avrebbero dovuto poi emergere alle spalle del muro giordano per portare invece l'attacco nella zona di Calchilia e tagliare a metà Israele anche quel piano però era un piano puramente teorico non c'era stata alcuna vera alcun vero tentativo di tradurlo in realtà era lì era proprio un disegno nella mente dei leader c'è però da dire e questo è un dettaglio abbastanza inquietante che è vero che Reusen di Giordania aveva lasciato ordini scritti in base ai quali le sue forze una volta eliminato quella parte di territorio israeliano dalla Trun a Gerusalemme dovevano sistematicamente massacrare ogni singolo ebreo che trovavano nel territorio quello sì quello questa è una cosa che è stata comprovata da serie ricerche storiche anche negli archivi giordani e questo ha dato poi anche corpo alla teoria secondo la quale gli arabi stavano preparando il secondo holocausto allora visto che abbiamo fatto una carrellata dei piani con i pianificatori passiamo ai personaggi principali dall'altra parte e poi torniamo nel dettaglio con i personaggi minori israeliani allora costui che potete vedere nella foto è Gamal Abdel Nasser Hussein il colui che all'epoca era il raiz il leader dell'Egitto ora per coloro che tra i nostri ascoltatori parlano arabo non saltatemi addosso dicendo hai sbagliato perché in arabo devi utilizzare la j come nel francese je t'aime e quindi bisognerebbe dire Jamal allora sì questo è vero nel resto del mondo arabo tra l'Egitto perché in Egitto dato che l'arabo non è una lingua unificata ma ha varie declinazioni nelle diverse aree del grande mondo arabo e i dialetti arabi certe volte possono differenziarsi anche notevolmente nella sintassi e nella pronuncia in Egitto loro non pronunciano Jamal ma dicono proprio Gamal con la G pesante per cui è giusto dire Gamal Nasser lui faceva parte del corpo del movimento degli ufficiali liberi che il 23 di luglio del 1952 abbatterono la monarchia di re Farouk d'Egitto e istituirono la repubblica tra l'altro è divertente perché commentando il destino che gli era capitato Re Farouk che era un grande appassionato del gioco di carte disse un giorno al mondo esisteranno solamente quattro re i re d'Inghilterra e i tre re delle carte in un'altra occasione sempre commentando quell'evento affermò solo due cose sono eterne Allah e il re d'Inghilterra tutto il resto passa era un po' piegato le facevano male un po' i ginocchi e anche qualcosa lui è considerato un padre della patria perché ha nazionalizzato ovviamente il passaggio un po' come Gheddafi lo è stato per la Libia cioè è stato amato fino a questo fallimento in realtà anche dopo perché Gamal Nasser riuscì a sopravvivere politicamente sia alla sconfitta nella guerra del 1956 che lui riuscì con la sua propaganda a trasformare in una vittoria ecco e anche alla sconfitta del 67 in realtà nel 67 lui effettivamente si dimise dalla carica di presidente ma per poche ore perché poi le manifestazioni popolari lo portarono a lo portarono a lo riportarono al potere però lo shock della sconfitta fu tale che minò in maniera definitiva la sua salute che già prima in realtà era cagionevole e nel 1970 un arresto cardiaco lo struncò e lo tolse di scena invece invece Mohammed Abdel Hakim Amer che che non è morto in quel famoso aereo non morì in quel famoso aereo però diciamo sulle sue spalle si prese gran parte della responsabilità della sconfitta della della guerra dei sei giorni ci arriveremo diciamo che diede un ordine di ritirata da compiersi in 24 ore tecnicamente infattibile dove ci sarebbe voluta una settimana che trasformò una ritirata egiziana in una rotta si lui si lasciò prendere dal panico nel secondo giorno di guerra dopo che gli israeliani erano riusciti a sfondare la linea difensiva nell'area di Rafa ma guarda più che panico perché mi sono letto un po' di report su alcuni libri addirittura era proprio denial cioè proprio si rifiutarono di accettare gli sfondamenti iniziali in Egitto si raccontò l'opposto cioè secondo loro era inconcepibile erano truppe che erano andate nel panico che mandavano report impossibili era impossibile che gli israeliani fossero passati così velocemente e quindi ritenevano quei passaggi completamente fuorvianti infatti vedremo truppe israeliane addirittura arriveranno di notte dentro degli accampamenti egiziani che non si aspettavano minimamente che gli israeliani potessero arrivare lì gli israeliani arriveranno prima di loro sul canale tagliando la ritirata c'è stato un giorno e mezzo di denial totale neanche panico poi il panico è subentrato quando si sono resi conto che quei report che erano stati tacciati di panico di unità che non sapevano che diavolo stavano dicendo in realtà erano vere e lì ti rendi conto del disastro sì vero però allora io in realtà avevo già fatto un salto hai fatto bene a mettere i puntini sulle io avevo dato per scontata questa parte mi sono reso conto che non avrei dovuto farlo io però avevo fatto il salto perché quando poi dopo lui si è lasciato prendere dal panico ha dato l'ordine della ritirata in realtà in realtà gli egiziani in quel momento avevano la loro seconda linea di difesa con la terza la terza divisione la quarta corazzata sì la terza difanteria e la quarta corazzata che non era ancora stata attaccata quindi era ancora intatta si stava andando e poi viene intercitata dal famoso passaggio che poi faremo vedere attraverso il deserto esatto quindi teoricamente adesso so che sto parlando in maniera solo teorica ma teoricamente spazio di manovra ancora c'era però in quel momento lui si effettivamente lasciò prendere dal panico e diede un ordine che gettò nel completo caos tutta la struttura delle forze armate egiziane nel Sinai anche perché diciamolo noi si parla di guerra di sei giorni ma tecnicamente succede quasi tutto nell'arco di 48 ore almeno a livello di scontri dove succede il disastro poi lo vedremo nelle battaglie principali è come se gli egiziani fossero zoppi e gli israeliani fossero dei maratoneti a livello di movimento di truppe di concezione della situazione tattica sul campo di battaglia si muovevano sempre con una lentezza devastante proprio a livello di pensiero di reazione rispetto alle mosse israeliane che onestamente sono state incredibili il forzamento del passaggio passano due compagnie di carri gli egiziani rioccupano il passo e gli israeliani che arrivano dopo si trovano il passo sbarato non sapendo che altre compagnie erano già passate avanti cioè sì 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 beh ma anche in all'inizio quando quando gli israeliani diedero assalto all'area di Rafa e di Khan Yunus quando la prima ondata corazzata israeliana arrivò l'affanteria palestina sì l'affanteria sia egiziana che palestinese no 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 scusa egiziana i palestinesi no hanno resistito da subito fino alla morte ma l'affanteria egiziana che occupava il lato di Rafa chiamiamolo così all'inizio alzò le mani i carri israeliani non gli spararono neppure passarono avanti e gli egiziani aspettavano che di essere presi prigionieri però l'affanteria meccanizzata israeliana era talmente indietro che gli egiziani ripresero le posizioni e quando poi arrivò l'affanteria meccanizzata iniziò la battaglia quindi veramente si crearono queste situazioni al limite del caschiano sul fronte del Sinai ma questo è anche figlio di quello che dicevamo prima della scarsa preparazione alla guerra un caso che mi è capitato di leggere mentre mi preparavo per la live stream di oggi era quello di un ufficiale che venne spedito dalla zona un egiziano dalla zona del canale fino nell'area di Kuntilla a due passi diciamo dalla parte mediana del deserto del Negev con una colonna di autocarri carichi di munizioni per le truppe che erano per le truppe di prima linea a questo ufficiale alla sua colonna vennero date mappe sbagliate quindi si misero a girovagare nel territorio del Sinai e dovettero bivaccare nel mezzo nel cuore della notte nella cittadina di Nakf che è proprio nella zona centrale della penisola del Sinai e dovettero per fare i fuochi bruciarono anche alcune tanniche di benzina perché se no non avevano un materiale con cui poi fare il fuoco e prepararsi la cena è vero e di notte nel deserto fa freddo ve lo posso garantire perché io mi sono trovato nella notte del deserto libico durante un periodo che sono stato in Libia d'inverno d'inverno fa veramente freddo no scusate parlando di notte fa veramente freddo parlando dell'attacco perché è molto interessante voglio solo dire questa insomma il giorno dopo il giorno dopo che era il giorno prima dello scopio della guerra finalmente riuscirono ad arrivare alla prima linea e pensando di essere accolti con tutti gli onori dissero ecco qua vi abbiamo portato il munizionamento che deve essere destinato a voi l'ufficiale al comando delle truppe in prima linea gli rispose abbiamo tutto il munizionamento che ci serve non ce ne serve altro inoltre non ci sarà nessuna guerra prendete la roba e riportatela indietro allora questi mestamente con le orecchie basse presero i loro camion e iniziarono a fare il percorso in retro e 30 minuti dopo aver salutato le truppe di prima linea la loro colonna venne mitragliata dagli aerei israeliani della prima ondata d'assalto mentre la guerra scoppiava quindi questo dà un'idea è proprio un piccolo microcosmo ma dà un'idea dello stato di confusione che regnasse tra le forze arabe in particolare tra quelle tra quelle egiziane nel Sinai allora venendo all'attacco per capire come aggirano velocemente gli israeliani si muovono praticamente con due puntate offensive una lungo la costa la prima zona che viene attaccata è Can Iuris Giuris Rafa Can Iunis Can Iunis questa è l'unità di Avigdor Kalani che poi si troverà a Rafa è lì che viene colpito poi con il suo patto più volte tra l'altro questa unità riesce molto velocemente stiamo parlando nel giro di 24 ore senza mai dormire andando avanti praticamente all'infinito infilandosi dentro delle città e sparando letteralmente fra l'altro ho visto un'intervista a Vigdor Kalani dove dice che hanno l'ordine era di non sparare dentro le case ma quando sono passati dentro la città li sparano a tutte le parti lui ha cominciato a buttare giù tutto quindi vanno avanti lungo la costa e arrivano a Gerardi Gerardi cos'è? è una specie di strozzatura una valle loro riescono a passare questa valle con le prime unità cioè quelle della settima e poi gli egiziani rioccupano la valle quindi loro vanno avanti verso El Arish gli egiziani rioccupano e vengono poi investiti se ricordo dalle unità della settantasettesima o dell'ottantaquattresima e vengono fatti a pezzi ovviamente con delle perdite cioè alla fine se ricordo bene gli egiziani avranno 500-600 perdite e gli israeliani in 60 grossomodo grossomodo sì intanto mentre loro facevano la strada ovvia quella più facile la carrozzabile lungo tutto l'Africa è così praticamente tutto il Medio Oriente e l'Africa le carrozzabili sono lungo lungo il Mediterraneo diciamo in questa parte di costa intanto nello stesso momento c'era la sessantesima che stava praticamente passando all'interno all'interno dove c'è praticamente un deserto con delle dune dove molti vennero persi perché avevano problemi proprio a salire queste dune e mentre c'è questa manovra paradossalmente vanno più veloci ovviamente quelli che passano lungo tutti i paesini rispetto a quelli nell'Egitto allo stesso tempo qui arriva la quarta corazzata quello che dicevamo egiziana che viene intercettata però dal passaggio attraverso il deserto e qui avviene uno scontro famoso dei centurion contro i T-54 e c'erano anche i T-34-85 c'era un buon quantitativo la guerra praticamente è finita qui nel senso nel momento in cui questa linea viene sfondata qui se ricordiamo c'era la prima linea egiziana c'era qui la prima linea egiziana e avviene questo scontro abbastanza famoso per il resto c'è una grossa corsa degli israeliani verso il canale di Suez qui vediamo una rappresentazione praticamente 3D puoi rimettere un attimo la mappa precedente perché volevo notare sì allora come al solito queste mappe presentano alcune imprecisioni sono semplici sì sì no però giusto per dire una cosa dato che i nostri ascoltatori sono molto esigenti avvocato catania dato che i nostri ascoltatori sono molto esigenti volevo solamente un attimo correggere alcune alcuni dettagli diciamo dalla parte israeliana dello schieramento perché giustamente lì più in basso mettono la trentunesima divisione del generale Avram Miaffe si scrive Yoffe ma era la 79 si ricorda no allora il fatto è questo che nell'esercito israeliano era sì organizzato in divisioni però dal punto di vista però queste esistevano dal punto di vista puramente diciamo burocratico ecco chiamiamolo così l'unità che passa il passo di Gerardi dopo la settima se ricordo bene l'ottantaduesima di Pinco di Pinco Arel quindi no no te lo do per certo me lo sono letto tutto ieri notte proprio per per fare una ripassata era l'unità di Baruch Pinco Arel ottantaduesimo Tank Battalion che è passato attraverso la strozzatura quindi sì ok va bene no io tu parlavi a livello di battaglione io ero a un livello un po' più alto ancora no ma perché il grosso non riesce neanche a prendere contatto poi no no sì però quello che volevo dire era un'altra cosa che gli israeliani dal punto di vista operativo di solito usavano le brigate nel caso della guerra dello Yom Kippur il grosso delle forze da loro organizzato sul fronte del Sinai era raggruppato in tre diverse ugde allora la ugda nella terminologia israeliana nella terminologia operativa israeliana era un qualcosa se vogliamo di paragonabile al Kampfgruppe tedesco della seconda guerra o la task force ecco in ambito anglosassone poi Ewer e queste ugde che loro avevano avevano organizzato e si basavano in parte ma non totalmente attorno a delle divisioni ma erano un qualcosa di un po' diverso le tre ugde che hanno portato avanti lo sfondamento nell'area del Sinai sono state la ugda Tal che noi la vediamo in parte al numero 84 ecco comandata dal generale israel Tal detto Talik e questa tra le altre comprendeva anche la settima brigata corazzata che tu hai citato prima che era comandata dal generale Shmuel Gonen e della quale faceva parte anche il reparto di Avigdor Kalani e se non ricordo male la la settima brigata era dotata di un complemento di 88 carri centurion e di 66 patton l'altra l'altra unità corazzata presente all'interno dell'Ugda Tal era la sessantesima brigata corazzata che l'hai citata anche questa ed era comandata dal generale Menachem Aviram questa invece era dotata degli Sherman aveva 86 carri Sherman infatti ha un ruolo secondario di accompagnamento del movimento diciamo che il ruolo principale è quello ovviamente di sfondamento sulla linea sul mare e quella la trentunesima di Yoff che poi in realtà non arriverà mai tutta a contatto perché se ricordo bene soltanto alcune brigate sotto il generale Avraham Bren Adan riusciranno ad entrare in contatto con la quarta egiziana e li faranno a pezzi c'è uno scontro a lunga distanza lui racconta che praticamente li colpiscono da lui parla in yard tra l'altro interessante circa 2000 yard cominciano a far fuori i carri i carri egiziani che bellamente continuano ad andare avanti lui cosa fa comincia a dividere praticamente le sue unità praticamente li schierano li apre li schiera in una specie di linea di fuoco però manda anche delle unità a fiancheggiare gli egiziani che bellamente continuano ad andare avanti ignorando l'aggiramento finché i carri israeliani non si piazzano sul fianco dell'avanzamento egiziano e con un fuoco di infilata li fanno letteralmente a pezzi qui gli egiziani perderanno in un solo sconto una novantina di carri perderanno l'idea quindi verranno fatti letteralmente a pezzi la guerra era finita qui praticamente nel senso il meglio dell'esercito egiziano viene tutto sconfitto in queste 48 ore e anche e anche a Abu Agheila un po' più a sud laddove poi ci arriviamo perché anche quella è una storia molto interessante e a Mid La Pass che è poco prima di arrivare sul sul fiume cioè sullo stretto perché lì gli israeliani si inventano una cosa ci arrivano talmente veloci ci arrivano di notte che dicono sai che c'è il comandante chiama tutti i suoi comandanti tramite radio e gli dice faremo una cosa assai strana accenderemo le luci e ci dirigeremo dentro l'accampamento era un accampamento di truppe corazzate egiziane entrano nell'accampamento si piazzano puntano tutti i cannoni contro i carri armati avversari e lui dice non sparate non sparate perché questa guerra è già vinta sarebbe un massacro sia per noi che per loro e praticamente prende il megafono e dice agli egiziani siamo dentro il vostro accampamento e fa arrendere un'intera brigata corazzata egiziana senza sparare un colpo sfruttando il fatto che gli egiziani neanche concepivano l'idea che gli israeliani potessero arrivare addirittura prima di loro talmente in profondità da trovarsi sulla prima linea egiziana quella di là del Sinai quindi questa guerra è avvenuta in maniera talmente rapida che il pensiero egiziano non è riuscito nemmeno a livello concettuale a poter comprendere la velocità degli israeliani che ovviamente rischiavano perché se quelli li beccavano in colonna con le luci accese non sarebbe finita bene questo è interessante raccontare questo genere di episodi per far capire l'intraprendenza e a volte il guizzo che può avere un comandante in questo genere di situazioni comunque nella zona della striscia di Gaza la ventesima divisione palestinese che era inquadrata nel cosiddetto Palestinian Liberation Army che all'epoca aveva tre divisioni una assegnata all'Egitto una alla Giordania e l'altra no che cacchio dico scusa una all'Egitto una alla Siria e l'ultima al Libano la ventesima difendeva Gaza ed era composta da palestinesi di Gaza e questi dopo i primi due giorni di combattimento rimasero isolati dal resto dell'esercito egiziano e combatterono fino all'esaurimento dei proiettili e quando la battaglia terminò quando si arresero vennero sterminati dal primo all'ultimo dagli israeliani che con loro non fecero prigionieri metto questo così chi se lo vuole se lo stoppa se lo legge se vuole leggere proprio la cronaca ora per ora di quello che è successo delle singole unità metto anche di qua così vedete la leggenda delle unità egiziane e delle unità israeliane qui parliamo di altri personaggi abbastanza interessanti sì questa invece è la battaglia di Abu Agheila e questa ci introduce il mito di Ariel Ariel Sharon detto Arik allora lui comandava la terza delle ugde che erano state organizzate per l'assalto in occasione dell'assalto al Sinai per dare diciamo corpo al suo pugno corazzato alla sua ugda era stata assegnata la 14esima brigata corazzata del generale Mordecai Zipori e la 99esima brigata di fanteria del generale Adam e l'ottantesima brigata invece dei paracadutisti del generale Danimat ciascuna delle ugde aveva a disposizione una brigata di paracadutisti in realtà il fronte come poi ho avuto modo di leggere il fronte il comando sud israeliano del generale Yeshayahu Gavish aveva a disposizione una ulteriore brigata paracadutisti la 55esima del generale Mordecai Gur detto Motta Motta Gur la quale però era in riserva e venne quasi subito destinata invece al comando centrale per i combattimenti in Cisgiordania e terminò la guerra combattendo a nord addirittura sul fronte del Golan quindi si è fatto il giro questa brigata di tutti e tre i fronti Sharon allora Ariel Sharon uno dei più grandi militari del ventesimo secolo nonché uno dei due grandi strateghi israeliani assieme a Moshe Dayan della storia di Israele uomo di cui si è detto di tutto nel bene e nel male ovviamente questo personaggio ha in sé sia il bene che il male a seconda dei punti di vista che del punto di vista che noi adottiamo perché chi è un eroe per gli uni è un diavolo per gli altri e viceversa quello che possiamo dire noi storico militare te e cultore della materia io è che è stato un militare dall'eccellente intuito tattico che è riuscito molte volte anche scavalcando la linea di comando a imporre le sue decisioni tattiche che in alcune occasioni hanno portato a strabilianti successi in altre occasioni hanno portato anche però a dei disastri tattici per gli israeliani a voler essere sinceri fino in fondo nel caso però della guerra dei sei giorni la sua azione la sua doppia azione aggirante ad Abu Agheila che lo ha portato prima a mandare una parte della quattordicesima brigata corazzata di Zipori sul fianco degli egiziani e in parte a trasferire di elicottero alcuni battaglioni della ottantesima brigata di paracadutisti di Matt dietro alle forze egiziane al fine di eliminarne l'artiglieria prima che iniziasse la battaglia vera e propria questa è stata una genialata una genialata incredibile credono se anche lui ha radici occidentali beh è nato a Brest-Litovsk e i genitori si ricordo bene si erano conosciuti all'università Tbilisi ah no no aspetta correzione sì i suoi genitori erano originari del della Russia sono scappati sì lui però nacque lui era un sabra lui nacque in nacque in Israele diciamo questa cosa che forse non tutti i nostri ascoltatori sanno in Israele esiste una distinzione tra gli ebrei diciamo immigrati coloro che dall'estero si trasferiscono in Israele per rendere Israele la loro nuova casa e gli ebrei invece nati e cresciuti non importa in che epoca storica nel territorio di Israele a partire dall'inizio dei primi pionieri socialisti nel 1881 fino ad ora tutti gli ebrei nati e cresciuti nel territorio di Israele vengono chiamati sabra che è una specie di cactus locale per dimostrarne in qualche modo la resistenza ecco il Sharon apparteneva stavo dicendo appartene in realtà è morto apparteneva alla generazione dei sabra lui era nato a differenza di altri di altri eroi della guerra e anche di prime lui era nato in Israele per esempio faccio degli esempi il fondatore dello stato ebraico Ben Gurion lui invece era un immigrato lui nacque in Polonia e poi si trasferì nella Palestina è interessante perché la famiglia di Sharon scappò praticamente dall'unione sovietica nel 22 23 proprio perché c'era la persecuzione verso gli ebrei lui non ha avuto una carriera militare nella seconda guerra mondiale però ha partecipato alla guerra del 48 combattendo dentro le tipe irachene e se ricordo bene fu ferito tre volte una allo stomaco di sicuro quindi è famoso per le sue ferite per le foto dove è sempre ferito diciamo lui venne ferito alla Trud nel posto della Bakhmut della Bakhmut israeliana della guerra di indipendenza comunque sì è vero c'è un altissimo numero di di fotografie che lo ritrae ferito e una piccola curiosità perché molto spesso degli uomini d'arma israeliani se se ne esaltano no 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 lascia pure la foto di prima che è carina che voglio dire una cosa sia di Sharon che anche di Moshe Dayan perché dei degli uomini d'arma israeliani spesse volte se ne giustamente anche se ne esaltano le gesta belliche ma se ne parla poco dei piccoli vizietti personali o anche delle porcherie che combinavano nella loro vita e se si va un po' a scavare al di là della politica ecco questo è un po' proprio di novella 2000 per far per rendere curiosa anche la parte femminile del pubblico se andiamo a scavare un po' nella vita di questi personaggi veramente se ne scoprono di tutti i colori che in confronto i loro nemici arabi era un bell'uomo quindi ne approfittavo a parte i loro problemi di corruzione sembrano invece dei veri santerellini allora il Moshe Dayan grandissimo generale israeliano fu un impenitente ladro di opere d'arte ma quando dico ladro intendo veramente dire ladro lui fu il comitente di alcuni dei più grandi furti di opere d'arte io so che aveva acquisito dei quadri rubati dai nazisti anche anche ma anche statue italiane e infatti quando poi lui morì la sua villa fu trovata addobbata di tutti questi di tutto questo ben di dio che venne poi sequestrato e restituito all'estero però a questo a tal proposito c'è anche una battuta in israele sul suo conto in base alla quale praticamente c'è questa è una barzelletta israeliana siamo nella notte in kibuzzi in mezzo al deserto un'auto arriva a fare i spenti e si ferma sul limitare esterno dove ci sono dove c'è la fila di la scendi giù il ladro nella notte scende pian piano si gira e il kibbutzim sbianca e dice oh è lei generale diane mi scusi pensavo fosse un ladruncolo da quattro soldi e diane cosa? io sono il ladro per eccellenza come hai osato scambiarmi per un ladruncolo qualsiasi questa è relativa a diane riguardo a Sharon invece divenne leggendaria la sua passione per il cibo era un mangione di prima categoria che indulgeva nei peccati di gola più impensabili ma uno a questo punto mi identifico sì ma ma uno a questo punto pensa una persona appassionata della cucina raffinata no Sharon ingollava di tutto e di più dal cibo più raffinato fino alle più grandi schifezze certi diplomatici americani che si trovarono a viaggiare nella stessa auto corazzata assieme a lui descrissero il fatto che il suo sub corazzata era pieno di snack dappertutto che addirittura ci si sedevano pure sopra ed era pieno di carte distribuite così frutto delle sue razzie e quando gli chiedevano del suo di questa sua passione lui gli rispondeva sempre guardate l'attività militare mi posso garantire che fa venire fame e secondariamente io amo tutto della vita il sesso e anche il cibo dei personaggi vabbè sai quando rischi la vita cerchi di apprezzarla in altri modi o l'apprezzi di più non per niente le due mogli di Sharon la prima e la seconda moglie erano sorelle lui sposò la prima moglie poi rimase vedovo e poi sposò la sua sorella però sembra ma qua andiamo veramente sul più originoso che Sharon avesse cornificato la prima moglie con la sorella mentre era ancora in vita la prima moglie poi scoprì il fattaccio e morì in un incidente stradale morì in un incidente stradale stradale mettiamola così morì in un incidente stradale alcune male lingue dicono che lui ebbe qualche diciamo ruolo nell'incidente stradale che avvenne altre lingue un po' meno male lingue più diciamo più benevole nei confronti di Sharon dissero semplicemente che lei dopo aver scoperto il tradimento era talmente fuori di sé che andò a schiantarsi e fece questo incidente e morì vabbè prima di proseguire io vorrei chiederti il permesso di andare al bagno un secondo sì sì io intanto spiego un po' qui la situation anche perché metto un attimo in carica il telefono ti raggiungo tra dieci minuti vai allora intanto io vi intrattengo qui e ragioniamo su quello che succede praticamente avvengono tutta una serie di combattimenti molto veloci da parte delle truppe israeliane che sorprendono le truppe soprattutto la seconda divisione egiziana che non riesce minimamente a contrastare il movimento degli israeliani che è molto veloce perché continuano ad utilizzare quella tattica di non fermarsi mai di continuare ad avanzare per non dare tempo le unità egiziane che hanno questo vizio di combattere da posizioni preparate a guardare sempre avanti non occuparsi dei fianchi vengono a volte letteralmente investite dagli israeliani si arriva quasi al combattimento corpo a corpo con i carri armati gli israeliani semplicemente continuano ad avanzare si inseriscono all'interno della formazione avversaria su posizione preparata e cominciano praticamente a farli fuori dalla loro posizione preparata qui gli egiziani vanno nel panico vanno nel panico e cominciano ad arrendersi in massa tanto che alcune delle colonne israeliane riescono a fare dei movimenti anche aggiranti e riescono a prendere alle spalle gli egiziani questo è il disastro stiamo parlando del 5-6 giugno stiamo parlando dei premi 48-72 ore di guerra la guerra letteralmente è già finita a livello di scontri come si può vedere il movimento israeliano è estremamente veloce qui c'è il movimento lungo la costa dove riescono a prendere rafa a passare attraverso il passaggio il movimento attraverso il deserto riesce a tagliare praticamente ogni unità che si trovava a nord la quarta viene sconfitta in questa zona tutti i movimenti israeliani sono estremamente veloci e si arriva praticamente verso il canale di Suez quando si arriva verso il canale di Suez il generale egiziano dà l'ordine di ritirarsi direttamente di riattraversare il canale cosa impossibile perché alcune unità egiziane si trovavano ancora al di là per dire di Nakl cioè in questa zona qui quindi si trovano tagliate completamente fuori dalle unità israeliane tanto che spesso trovano delle colonne israeliane che già li aspettano c'è un famoso scontro se ricordo bene a Mitla Pass dove ci sono dodici cadi armati israeliani che riescono a fermare una divisione egiziana che si stava ritirando per almeno un paio d'ore finché non arrivano il resto delle truppe israeliane a entrare nella battaglia a loro volta e questi sono costretti ad arrendersi praticamente quando si arriva sul canale di Suez c'è questo famoso ordine e lì le truppe egiziane vanno nel panico cioè non è una ritirata perché una ritirata di quel tipo lì con questo numero di truppe coinvolte richiederebbe una settimana il generale dà ordine di farlo in 24 ore beh tanti egiziani o vengono sorpresi come abbiamo raccontato prima o ritirandosi incontrano già truppe scusate egiziani incontrano già truppe israeliani che hanno sopravvanzato le loro posizioni o semplicemente mollano i mezzi riattraversano o si arrendono si arrendono in massa se uno va a vedere le foto che girano della guerra dei sei giorni potete vedere in intere colonne ricordiamoci che mentre sta succedendo tutto questo avviene la parte aerea la parte aerea c'è la missione l'operazione chiamata focus poi dipende ci sono varie nomenclature diciamo moched o focus vedete un po' voi dove praticamente mentre gli egiziani erano a colazione alle 8.45 del mattino non chiedetemi perché fanno a colazione così tardi in quell'esercito se sono sbagliato nel nostro esercito è tipo le 6 e mezzo forse anche le 6 vengono sorpresi sulle piste con dei danni devastanti alla fine se ricordo bene tutte le forze arabe perché vengono attaccati anche i giordani anche i libanesi anche i siriani perdono circa 400 aerei contro se ricordo bene 35 36 aerei israeliani di cui solo 6 contro contro gli egiziani quindi le forze aerei egiziani vengono letteralmente spazzate via al suolo senza possibilità di di replica e questa è la parte più importante perché l'aviazione israeliana avrà praticamente campo libero quindi riusciranno a fare quello che vogliono colpendo tutte le tutte le colonne in ritirata degli egiziani quindi il 5 giugno del 67 le forze di difesa israele iniziano l'operazione focus un attacco coordinato contro l'egitto circa 200 aerei decollano da israele volano tra l'altro a pelo dell'acqua tanto che ho letto dei report di piloti egiziani e piloti israeliani che raccontavano che alcuni piloti erano molto green e che eravano un'onda quando andavano tanto che volavano bassi e sono circa 200 e riescono a sorprendere le difese egiziane volavano anche bassi per evitare soprattutto i radar giordani per evitare quindi dopo aver colto di sorpresa praticamente gli aeroporti con tre passaggi c'erano tre ondate ok 18 diversi aeroporti riescono ad eliminare il 90% dell'aviazione egiziana mentre è a terra quindi ha praticamente campo libero per attaccare le forze aeree giordane siriane irachene libanesi se non sbaglio hanno perso due aerei non è che ne avevano molti alla fine della giornata del 5 giugno gli israeliani avevano conquistato praticamente il pieno controllo dei cieli sopra il conflitto quindi non c'era fa l'altro per puro caso visto che parlavamo il Feldmaresciallo Abdel El-Hakim Amer io l'arabo non è che lo leggo bene comandante di tutte le forze armate era in visita con il capo dell'aeronautica il generale Mohammed Sidki ed erano a bordo di un aereo da trasporto Antonov 12 e lì raccontavano non fidandosi del giudizio dei propri uomini avevano ordinato i cannonieri dell'antierea di non sparare quindi quando passarono gli aerei israeliani che cominciarono a bombardare l'antierea egiziana non sparano neanche non ci provano neanche scambiarono addirittura quello per la scorta in generale pertanto i getti israeliani che passavano di lì a massima velocità ebbero praticamente un corridoio garantito dall'ingiziano che è il colmo vennero distrutti anche perché gli egiziani avevano brutto vizio di mettere gli aerei tutti ala ad ala uno accanto all'altro quindi perfetti per essere colpiti di infilata e persero soprattutto tre tipologie di aereo che erano fondamentali i Tupolev Tu-16 che erano i bombardieri che potevano arrivare in qualsiasi città di Israele i MiG-21 e se non sbaglio avevano anche i MiG-19 e un po' di aerei da trasporto e delicotteri e gli uscini il 28 i bombardieri e sì fra l'altro gli viene dato ordine di consumare solo fino a un terzo delle munizioni e del carburante in caso qualche aereo fosse sfuggito e si dovesse fare dogfight diciamo che in 170 minuti gli egiziani persero 293 aerei e gli israeliani i 10 di cui 6 danneggiati con 6 piloti uccisi quindi una cosa strepitosa dal punto di vista militare la cosa interessante è che mentre i rapporti di questo successo arrivavano al comandante dell'aeronautica il generale di brigata HOD lui andò dal futuro primo ministro Ishaq Rabin che era il capo dello stato maggiore dell'IDF e gli disse l'aeronautica militare G-SAN ha cessato di esistere punto questo era il messaggio quindi da lì in poi poteva cominciare diciamo l'azione terrestre con un vantaggio epocale perché ovviamente poi un buon terzo delle missioni che faranno gli israeliani saranno di CAS quindi andranno a supportare le truppe di terra per quanto riguarda invece la Giordania persero 28 aerei in 30 minuti quindi sì erano tutti quelli che avevano c'è da dire una cosa fammi finire i numeri gli iracheni i 10 e i siriani i 57 che erano due terzi di quelli che avevano quindi in totale quel giorno gli israeliani distrussero 416 aerei arabi maggior parte a terra contro 26 israeliani nel complesso quindi era spianata praticamente la vittoria terrestre lasciando perdere come si sono comportati gli arabi a terra sorpresi dalla velocità all'intraprendenza israeliana in aria credo che sia la vittoria più unilaterale che abbia mai sentito per quanto riguarda una battaglia aerea chiamiamola battaglia aerea se qualcosa è riuscito a decollare diciamo sì l'unico l'unico attacco preventivo anzi gli unici due attacchi preventivi più efficaci di questo sono stati sicuramente quello tedesco contro l'unione sovietica all'inizio di Barbarossa e forse per l'arbor cioè se guardiamo la storia ma qui c'è anche il fatto di sorprendere cinque paesi sì però ne sorprendi più di uno sì però se tu pensi all'efficacia che ha avuto l'attacco della Luftwaffe contro la 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 VVS nei primi giorni di Barbarossa cioè gli sorprendono a terra anche migliaia però c'era un rapporto di forze differente anche di qui stiamo parlando di un paese relativamente piccolo contro una coalizione di paesi è una cosa sorprendente riuscire a colpire tutto con delle perdite così piccole con un'operazione così ben pianificata questo questo è il volo che hanno fatto praticamente passando dal Mediterraneo e questo è il volo che hanno fatto di ritorno perché facevano questo volo a ciclo parlando pare che i piloti israeliani fecero qualcosa come 18 sortite a testa questo dato non me lo ricordo però per sortita si intende anche singolo attacco singolo passaggio quindi una media di due operazioni per pilota al giorno che è abbastanza faticoso se parliamo di sì però comunque gli israeliani avevano tre piloti per ogni aereo e questo li ha aiutati non poco perché a distribuire la fatica un problema che avevano gli arabi è che non avevano non avevano abbastanza piloti qualificati per tutti gli aerei a loro disposizione per esempio si sa per certo che l'Egitto non aveva abbastanza piloti per tutti i MiG-21 non erano particolarmente addestati in questa mappa che è molto carina si vede che mentre sta avvenendo l'attacco aereo l'attacco terrestre israeliano era ancora nella fascia cioè non avevano ancora nemmeno incontrato la quarta egiziana quindi stiamo parlando del primo giorno cioè nelle prime ore nel giro di tre ore devastazione totale poi di questo ora qui ne parliamo a grandi linee poi saremo molto specifici quando faremo la live dedicata soltanto alla parte aerea qua si può vedere benissimo le missioni di partenza le missioni di ritorno e anche i giri che hanno fatto perché vanno a colpire anche a Luxor a Luxor a Urgada sì sì è stata è stata una distruzione totale peraltro tu parlavi prima dell'addestramento dei piloti arabi i piloti più addestrati in quel periodo nel mondo arabo erano gli iracheni gli iracheni volavano una media di 20-22 ore adesso rispondo anche a questo quasi tutti i francesi 20-22 ore al mese quindi era un standard quasi nato e ogni settimana la domenica si svolgeva gli avvioggetti iracheni svolgevano una esercitazione con munizionamento reale l'equivalente chiamiamolo così dell'avia dart no questo è un inner joke per Ivan Greco sì erano pelati perché quando l'altro pilota si incontrava col pilota avversario il riflesso lo accecava questa non la sapevo comunque se è una battuta è carina no comunque sì nel mondo arabo in quel periodo i piloti più addestrati erano gli iracheni gli altri invece andavano a scemare difatti un buon rinforzo per gli arabi in quell'occasione sono stati ma sono arrivati tardi i piloti inviati dal Pakistan in maniera emergenziale il Pakistan inviò un contingente di piloti senza aerei per usare gli aerei superstiti degli altri e i piloti pakistani si comportarono si comportarono bene in quella situazione ci fu poi il caso di un pilota giordano a cui vennero assegnate quattro vittorie ma probabilmente si tratta di propaganda pura e semplice invece quando parlavi prima dell'attacco a raso mare questo ha generato una sorta di interrogativo perché nella maggior parte dei libri dei libri che parlano della guerra dei sei giorni si dice che quando il grande stormo decollò all'inizio per portare a compimento la prima passata nei confronti delle basi egiziane i velivoli israeliani vennero intercettati dai radar giordani che erano stati costruiti forniti ai giordani dagli inglesi ora è stata costruita questa storia non si sa se è vera o leggenda che i giordani poi chiamarono gli egiziani per mandargli notifica di aver intercettato questa grande formazione israeliana che era diretta su di loro ma gli egiziani non ricevettero mai tale messaggio perché il giorno prima avevano cambiato i codici delle loro telescriventi per cui il messaggio si perse nel lettere ora alcuni storici israeliani tipo Shlomo Aloni che è il più importante di cui c'è il libro ricordate sotto alla live c'è tutta la bibliografia è il primo libro che dovete leggere ok lui ne ha scritto una catterba in realtà il principale peraltro storico dell'aeronautica israeliana in più di un'occasione e anche in conferenze pubbliche ha fortemente rigettato tale tale storia tale possibilità perché effettivamente il suo ragionamento è logico perché lui dice sostanzialmente questa cosa i radar egiziani no egiziani scusa giordani si trovavano in una posizione sopraelevata sulle montagne della Giordania e quindi questi non potevano avere una visuale a raso mare quindi non potevano intercettare sicuramente i velivoli israeliani non appena erano decollati ma quando erano in una fase diciamo ascendente inoltre il radar per chi conosce qualcosa di questa tecnologia funziona un po' come una sorta di cono per cui si espande cioè se io sono l'antenna per così dire il fascio di scoperta si espande così verso l'esterno a mo' di cono però tende ad andare verso l'alto per il problema della curvatura terrestre e se e e quindi più si va in là più il fascio tende a ridursi verso l'alto perciò se noi teniamo conto di queste questioni di carattere meramente tecnico in realtà le possibilità per i giordani di intercettare la questa grande formazione israeliana diretta verso il mare a bassa quota sono assai più difficili di quello che può sembrare di primo acchito semi impossibili se volavano veramente all'appello dell'acqua quindi comunque la dico così per una questione di completezza perché ovviamente ci sono sempre le teorie che si scontrano da questo punto di vista la chiamiamo la guerra dei se giorni in questa mappa ci sono i colori quindi fanno capire bene l'avanzamento del 5 giugno quella in rosso praticamente il rosato quella del 6 in arancione quella del 7 e qui si vede quanto velocemente sono avanzati gli israeliani queste sono le colonne che vanno a tagliare praticamente le vie di ritirata degli egiziani e l'otto ed è anche l'azione di Shermel Sheik di cui ho parlato prima quando ci hanno fatto la domanda relativa alle marine quindi ci si può rendere conto che alla fine la guerra è finita in 4 giorni realmente il resto dei combattimenti avverranno dall'altra parte infatti voglio far vedere proprio l'altra parte che è quella forse più oscura cioè i combattimenti vicino a Gerusalemme i combattimenti sulle alture del Golan sono quelli meno raccontati diciamo allora quelli quelli del Golan sì quelli di Gerusalemme no perché hanno avuto anche la loro il loro spotlight come direbbero i nostri colleghi anglosassoni diciamo questo che i giordani tra tutti i nemici degli israeliani erano quelli che avevano le forze più capaci dal punto di vista professionale e sì dal punto di vista militare in generale non solo se voi guardate la loro grafia vi rendete conto di come i giordani meno dei siriani ma di sicuro più degli egiziani si trovavano in una posizione ideale per la difesa perché tutta la zona centrale dell'area che oggi chiamiamo Israele e Palestina come potete vedere è un susseguirsi di colline e di montagne che poi vanno a precipitare nel basso piano del 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 giordano sì nella valle del giordano e del mar morto però quella la posizione difensiva centrale è l'ideale lo è stata per per secolo per millenni per tutte le le ere militari che si sono succedute in quella parte del mondo e lì in quella zona gli i giordani avevano concentrato la creme della creme delle loro delle loro forze militari infatti tra tutte le brigate del delle forze armate giordane solamente tre erano situate al di là del del giordano tutte le altre brigate delle delle forze nelle quali erano organizzate le forze armate giordane incluse le due brigate d'élite la quarantesima brigate quarantesima brigata e sessantesima brigate corazzate erano tutte nella Cisgiordania per cui re Hussein era fermamente intenzionato a difendere ogni metro del suo regno anche per non dare per non prestare il fianco alla resistenza palestinese che oltre a voler eliminare Israele coltivava anche l'idea di eliminare la monarchia giordana e creare un domani la grande palestina cosa sta chiamando se sono off topic un numero richiesta più che una domanda è un numero richiesta quanto pubblicare il tuo libro puoi rendere disponibile anche in versione ebook per quei poveri stronzi dislessi che si certo che li pubblichiamo in versione ebook grazie anzi visto che hai donato 119 euro scrivimi sulla mail e te lo mando sia quello che esce con Ticini sia quello con Capitini di Tascamia con tanto di dediche scrivimi sulla mail porca miseria che donazione no niente quindi dicevo la gran parte l'80% delle forze giordane erano situate nella 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 Cisgiordania e i i combattimenti più violenti dell'area della Cisgiordania vennero a Gerusalemme specialmente attorno all'Ammunition Hill lì i giordani veramente combatterono fino all'ultimo uomo e gli ultimi 42 feriti giordani che rimasero nell'ospedale dell'Ammunition Hill si suicidarono detonando le loro ultime granate rimaste rimaste lì per non cadere nelle mani degli israeliani i quali peraltro incattiviti dalla da quanto stava durando la da quanto stava durando il combattimento con i megafoni li avevano urlato che in ogni caso li avrebbero passati per le armi quindi ormai il dopo due giorni in cui si combattevano attorno alla città città santa tra virgolette senza risparmio di forze entrambi i contendenti non davano più grande spazio alla pietà e un'altra zona in cui si combattevano aspramente fu nella valle di dotan vicino a gemin nella zona nella zona nord esatto lì dove dove Mirko sta puntando il cursore lì i i combattimenti che opposero la sessantesima brigata corazzata giordana al alla ugda peled che veniva da nord durarono credo l'intera giornata e alla fine solo otto se non ricordo male otto carri armati giordani riuscirono a ritirarsi gli altri erano stati distrutti nel corso dei violenti combattimenti ma in generale entrambe le forze corazzate giordane in generale ne uscirono ridotte ai minimi termini ma combatterono con onore infatti agli ultimi agli ultimi soldati giordani che presidiavano la città vecchia e che si arresero con l'arrivo del cessato il fuoco diciamo mediato dall'ONU a loro venne concesso dagli israeliani anche per come tributo al loro coraggio l'onore delle armi e poter non sfilare i disturbati fuori dalla città e farsi tutta la strada a piedi fino al Giordano che dovessero poi guardare a nuoto perché nell'ultima fase dei combattimenti nella Cisgiordania l'aviazione israeliana aveva bombardato e distrutto tutti e tre i ponti sul Giordano era ormai una battaglia persa qui siamo al 9-10 si stanno ritirando verso la Siria vengono inseguiti dagli israeliani e come abbiamo visto nei quattro giorni precedenti si era già tutto deciso quindi ora se avessero resistito il resto dell'armata israeliana si sarebbe spostata a nord quindi non avevano nessuna chance fra l'altro con il dominio aereo perché non potevano opporre più nulla c'ho qualche zoom questa è la battaglia di Gerusalemme si come si può vedere le avanzate israeliane in rosso del 5 in rosato diciamo il 6 e il 7 quando sanno già di aver vinto a sud che mandano avanti tutto quindi anche qui è durata è durata veramente poco e parlato della situazione questa è la situazione del fronte della Giordania anche qui gli israeliani si muovono molto veloci potete vedere proprio la differenza dei movimenti rosso rosato giallo e vedi un'improvvisa accelerazione il 7 perché perché si era già deciso tutto il 5 e il 6 giù quindi sanno che possono andare a brilli a sciolta cioè i 5 e 6 sono più contenuti il 7 8 li vedi partire a sciolta perché sanno che riceveranno molti più rinforzi gli egiziani sono sconfitti gli israeliani lo sanno e quindi possono scatenare tutto il loro potenziale contro il resto sì in realtà bisogna dire una cosa che il crollo dei Giordani in qualche modo dopo i primi due giorni di i primi due giorni di due e tre giorni di combattimento fu causato anche dalle improvvide decisioni di re Hussein Hussein si era diciamo si era lasciato sviare da Nasser perché Nasser gli aveva nascosto la vera entità delle perdite delle perdite aeree e anche della sconfitta nel Sinai intanto che lo spacciò come una vittoria anche nel dopo per cui a un certo punto dopo il secondo giorno re Hussein distaccò alcune sezioni della quarantesima brigata che si trovava nella zona compresa tra Gerusalemme Ramallah e Gerico verso sud verso la zona di Hebron perché perché da lì avrebbero dovuto congiungersi con l'offensiva egiziana proveniente da sud offensiva che non è mai arrivata e durante il tragitto la quarantesima brigata venne bombardata senza pietà dall'aeronautica israeliana e i poveri soldati della quarantesima brigata infine giunsero a Hebron solamente per ricevere ordine di tornare a Gerico e questo è avvenuto alla quarantesima brigata ma se noi andiamo a investigare la storia delle varie brigate giordane che adesso non ripercorro perché sarebbe forse tedioso e lungo però se ne trovano diverse di situazioni come queste in cui questi poveri beduini vennero spostati come i matti da una parte all'altra della Cisgiordania per rispondere a piani e per rispondere a contingenze operative che in parte erano reali in parte erano totalmente campate per aria e che finirono solamente per incidere negativamente sulla loro organizzazione e sul loro morale però se noi andiamo a guardare alle perdite complessive della guerra dei sei giorni ci accorgiamo dalla parte israeliana che contro i giordani gli israeliani hanno perso il percentile maggiore di soldati a testimonianza anche della violenza dei combattimenti che hanno posto in quel settore i giordani e gli israeliani parliamo dell'after cosa hanno guadagnato gli israeliani da tutto questo a livello territoriale a livello spesito diciamo qualcosa del golem così per chiudere il cerchio allora e poi parliamo dell'after after hour allora per quanto riguarda il fronte del golem fu l'ultimo a accendersi perché gli israeliani lo attaccarono in forze solamente dopo aver finito il lavoro con gli egiziani e con i giordani e aver raggiunto tutti i loro obiettivi militari in quei due settori per la verità i siriani erano rimasti operosi durante tutto quel periodo e nei primi quattro giorni della guerra loro non fecero altro che bombardare il nord di israele in continuazione fecero anche nel primo o nel secondo giorno di guerra un piccolo attacco di terra ai danni del villaggio di Dan nell'estremo nord israele che attacco però assolutamente prematuro che si conclusi in un falimento totale se la Siria fosse rimasta calma forse al di là dei bombardamenti aerei gli israeliani l'avrebbero anche lasciata correre però i bombardamenti continui d'artiglieria dei primi quattro giorni di guerra fecero optare infine per risolvere la questione lasciata aperta dagli israeliani anche con i siriani mentre il piano contro l'Egitto di offensiva terrestre aveva come nome in codice il nome drappo rosso il piano contro i giordani aveva come nome in codice frusta mentre quello contro gli egiziani scure questa è una domanda per la no no scusa leggila perché ci sono molti che ci ascoltano che non guardano il video magari sono in bicicletta o in auto quindi io le domande le leggo sempre così capisco cos'è la risposta questa sconfi ti ha insegnato qualcosa all'esercito egiziano quali cambi di dottrina armamenti addestramento ci furono per mettersi al passo con gli israeliani per le future guerre allora sì questa però è una domanda per la live sulla guerra dello Yom Kippur quindi daremo la risposta quando tratteremo della guerra dello Yom Kippur però sì certo che gli ha insegnato hanno fatto ci sono fatti una bella lavata di capo hanno messo hanno imparato l'umiltà e si sono preparati seriamente ho fatto con varie sorprese come i missili anticarro russi che poi non parleremo sì 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 tante sorprese tante tante no dicevo quindi il il penultimo di guerra infine il piano martello hammer cadde sui siriani e furono attaccati sul fronte del Golan dalle forze israeliche in realtà nel primo giorno di combattimenti la situazione fu abbastanza equilibrata perché seppur meno preparati militarmente rispetto ai ai giordani e non altrettanto numerosi quanto gli egiziani i siriani comunque erano abbastanza ricchi di mezzi militari e si trovavano a difendere una posizione ideale perché non so chi l'ha mai visitato o chi ne ha mai visto delle foto ma il Golan è un altipiano che è veramente difficile da scalare soprattutto dal lato israeliano gli israeliani potevano inerpicarsi sulle alture del Golan attraverso essenzialmente due strade le quali erano peraltro entrambe sterrate e in alcune occasioni loro ebbero difficoltà addirittura perché i loro carri si ribaltavano e cadevano nei crepaci infatti alla fine della guerra su 394 carri che gli israeliani persero nella guerra dei sei giorni ben 160 quindi la porzione maggiore vennero persi nei due giorni del Golan altri 112 vennero invece persi contro i Giordani e gli ultimi 122 vennero persi invece contro gli egiziani sul Sinai quindi questo dimostra anche la saldezza delle difese siriane e in alcuni momenti gli israeliani per attaccare le difese siriane furono costretti a organizzare delle vere e proprie ondate umane di assalti all'arma bianca con soldati che si gettarono e non sto scherzando certe cose le fanno anche gli israeliani non solo i giapponesi con alcuni soldati che si gettarono sul filo spinato in modo con i loro corpi di creare dei passaggi su cui i loro commilitoni potevano poi camminare e a dare l'assalto alle difese siriane nelle quali gli israeliani e siriani si combatterono letteralmente con i calci dei fucili con i coltelli e a morsi a pugni o a calci quindi fu veramente un combattimento all'ultimo sangue nel vero senso della parola però anche in quel caso questo dà un'idea dello scenare dell'altura sì sì peraltro i siriani avevano creato delle linee delle linee difensive e delle molto munite le quali erano difficili da eliminare anche con l'intervento dell'aeronautica israeliana aeronautica israeliana la Cheil Ha'Vir che sul fronte del Golan in due giorni se ricordo bene effettuò più sortite di quante ne aveva fatte nel resto della guerra su tutti i fronti forse più di mille non mi ricordo bene esattamente il dato ma andrò a rivedermelo e alla fine i siriani vennero fottuti si può dire dai loro stessi comandanti perché perché per cercare di accelerare il la dichiarazione del cessato il fuoco che l'ONU e le grandi potenze già avevano iniziato a organizzare per imporre ai contendenti gli siriani iniziarono a inoltrare tutta una serie di messaggi falsi in base ai quali gli israeliani avevano già sfondato ed erano diretti a Cuneitra ma questa era una palla micidiale perché non era vero gli israeliani erano riusciti ad avanzare di pochi chilometri solamente in due piccole aree e in una delle due aree erano avanzati meramente di poche centinaia di metri al di là del confine nell'altra area erano avanzati di credo cinque chilometri ma non erano riusciti a intaccare neanche la prima linea di difesa siriana e i siriani di linee di difesa ne erano cinque e gran parte delle truppe siriane non erano neanche proprio nemmeno state ingaggiate in combattimento e le le linee d'artiglieria più arretrate potevano addirittura continuare a permettersi il lusso di continuare a bombardare gli insediamenti anziché appoggiare le loro truppe di prima linea che invece venivano appoggiate dalle forze d'artiglieria nelle prime linee difensive però quando questa notizia iniziò a diffondersi a tutti i livelli dell'esercito siriano si assistette a scene da Francia 1940 gli ufficiali che saltavano sui loro veicoli e con i loro autisti scappavano via i soldati rimasti senza guida che si davano alla fuga letteralmente abbandonando tutto anche i loro effetti personali gli stivali i carri armati con i motori ancora ancora accesi tant'è che quando gli israeliani li presero il controllo si lamentarono del fatto che lasciando i motori accesi i siriani avevano consumato il carburante e anche il livello dell'olio aveva raggiunto livelli talmente bassi che poi gli israeliani dovettero per rimettere in servizio quei carri cambiare completamente i motori che si erano grippati nel frattempo quindi li presero anche per il culo i siriani dicendoli che la consegna di armi dalla Siria a Israele non era avvenuta come era stato patuito e le armi non erano state consegnate nelle condizioni migliori giusto per aggiungere sale alle ferite però sì alla fine gli israeliani riuscirono a prendere il controllo di tutto il Golan inclusa anche il capoluogo Cuneitra la guerra si fermò il 10 di giugno però due giorni dopo approfittando della situazione ancora non completamente stabilizzata gli israeliani portarono a compimento il loro ultimo colpo da maestro quando con un comando elitrasportato preso il controllo del monte Erman da cui potevano avere una visuale perfetta del resto del Golan che avevano appena conquistato ma anche di tutto il saliente di tutto la pianura di Bashan fino alla capitale Damasco stessa e dall'altra parte del Libano quindi hanno preso il controllo anche della cima ideale da cui tenere sottotiro non dico l'intero Medio Oriente ma buona parte di esso i vicini diciamo e completarono l'unificazione di Gerusalemme che era un obiettivo insomma di lunga data infatti la mappa finale è proprio su questo questa è la United Gerusalemme After Six Day War a parte piccole zone che sappiamo sulla minoranza insomma eccetera che lezione hanno tratto entrambi da questa storia beh gli israeliani hanno capito che devono colpire i primi e pesantemente perché si sono ritirati dal Sinai quando potevano tenerlo tutto come linea di confine no dopo la guerra dei sei giorni non si sono ritirati dopo sì nel senso c'è sempre questa cosa del prendere e poi molare molto più di quello che hanno preso le concessioni dal 67 al 2011 poi c'è tutto un passaggio ho capito no allora per le questioni di politica internazionale che hanno portato poi israele a evacuare il Sinai dopo gli accordi di pace di Cam David io penso che sarebbe meglio dal punto di vista metodologico parlarne dopo che avremmo trattato la guerra dello Yom Kippur per il momento è meglio rimanere al periodo storico di trattazione se no facciamo delle fughe in avanti troppo grandi diciamo questo però che dopo la guerra del 1956 quella la guerra del Sinai israele aveva abbandonato il Sinai perché cedendo come la Francia e la e la Gran Bretagna alle pressioni internazionali di ONU Stati Uniti e Unione Sovietica uno dei rari casi in cui gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si misero d'accordo in sede ONU per fottere altri ecco e gli israeliani alla fine rispetto alle superpotenze c'è una ragione di fondo gli americani sono anticolonialisti quindi vedevano di malocchio le azioni francesi e inglesi in quel senso lì i russi volevano favorire gli egiziani e in più indebolevano gli israeliani quindi tutti erano contenti cioè russi americani gli altri informi no no ma dicevo solo la curiosità di questo evento però Israele se n'era andato via in collocasione dal Sinai a ragion veduta nel senso che comunque attraverso il memorandum siglato il 23 di febbraio del 1957 gli Stati Uniti avevano riaffermato il loro impegno a garantire la libertà di navigazione in tutto il globo terraqueo ma anche nello stretto di Tiran per cui gli Stati Uniti si impegnavano in caso anche a usare la forza per permettere anche al navigo israeliano di navigare per quelle acque quando l'Egitto chiuse lo stretto di Tiran per la seconda volta prima volta era stato prima della guerra del 56 e la seconda volta prima della guerra del 67 gli israeliani trattarono questo come un caso sbelli ha ragione anche perché quella volta tutto il petrolio che Israele acquistava lo acquistava dall'Iran dello Shah Mohammed Reza Palevi e esso arrivava in Israele attraverso il Mar Rosso quindi doveva passare attraverso lo stretto di Tiran e arrivare al porto di Eilat ed è anche la ragione per cui l'unico piano militare serio vero che gli egiziani avevano veramente studiato era quello per la conquista del porto di Eilat perché pensavano di strozzare Israele in quella maniera e così non sarebbe stato neanche necessario proseguire la guerra nel resto del territorio questa volta gli israeliani impararono la lezione e dissero col ciuffolo che vi restituiamo il Sinai noi siamo disposti questo lo disse il primo ministro Levi Eshkol alcuni giorni dopo la guerra siamo disposti a intavolare una trattativa seria con i paesi arabi per la restituzione di tutti i territori che noi abbiamo conquistato tranne Gerusalemme e agli altri paesi arabi a condizione che la restituzione di questi territori sia accompagnata dalla stesura di trattati di pace definitivi gli arabi risposero di no nel corso della conferenza di Khartoum che si svolse di lì a poco la lega araba riunita tutti i 13 paesi della lega araba si misero d'accordo sul principio dei tre no no negoziazione no pace no riconoscimento nei confronti dell'entità sionista e appoggio della causa palestinese l'unica diciamo spiraglio che gli arabi lasciarono intravedere fu il seguente ma che fu veramente fumoso e fu e fu e fu questo essi comunicarono peraltro in maniera informale agli israeliani che se Israele avesse come gesto di buona volontà deciso di ritirarsi entro le linee del 1900 sì di prima della guerra allora i paesi arabi avrebbero potuto prendere in considerazione il fatto di intavolare delle trattative però cioè adesso fiumi di inchiostro sono stati scritti sul fatto che questa cioè che in realtà i leader arabi avessero lasciato questa porta aperta apposta per gli israeliani per poterla aprire e in questo modo non compromettersi alla luce delle loro opinioni pubbliche le quali volevano la vendetta sul campo di battaglia e bla 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 però obiettivamente dato che comunque sia io che te siamo uomini della realpolitik e al di là dell'essere filo questi o filo quelli dopo una guerra di quelle dimensioni e dopo aver ottenuto tali risultati sul campo di battaglia la conquista del Sinai della striscia di Gaza della città di Gerusalemme dell'intera Cisgiordania e delle alture del Golan era fondamentalmente impensabile per gli israeliani dire ok cancellare le loro vittorie fra quei punti di Khartoum c'è anche l'eliminazione di qualsiasi base occidentale nei paesi arabi proprio un'epurazione ah sì 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 boh in realtà l'avevano già cioè quello che sottintendeva quella cosa che poi quello che fece Gheddafi c'era tutta questa ottica qui cioè proprio un'ottica dei ripulisti anche filocoloniali in un certo senso cioè rimuovere qualsiasi rimasullio di quella storia lì sì in realtà a dire la verità gli inglesi avevano già detto ai paesi arabi i loro amici nella zona del golfo Kuwait Emirati che da lì a poco avrebbero abbandonato le loro basi perché costavano troppo e la Gran Bretagna doveva ridurre la presenza in quella parte del mondo altre basi credo che le poche basi che i francesi avevano mantenuto la base di Marcel Khebir e in Algeria no quella era già stata abbandonata nel 66 così come anche credo la base di Bizerta in Tunisia sì c'erano le basi americane in Libia però consideriamo il fatto che il colonnello Muammar al-Khaldafi divenne leader supremo della Repubblica Verde nel 69 in quel periodo la Libia era ancora sotto perché l'ho citato perché è interessante perché Gheddafi utilizzò proprio questo per denunciare il re dicendo che si piegava rispetto ai americani mentre gli altri si erano già liberati uso molto questa cosa delle basi americane ma intanto salutone a zio Mike sì peraltro Gheddafi che fece la sua esperienza nella guerra dei sei giorni perché lui era al comando di un'unità libica inviata a sostegno degli egiziani tuttavia gli Gheddafi e i suoi uomini arrivarono nella zona del canale quando sostanzialmente la ritirata era in pieno svolgimento per cui lui diede ordine ai suoi di nemmeno varcare il canale di rimanere sulla sponda sulla sponda ovest e nelle sue memorie lui diede ampio spazio al senso di umiliazione e frustrazione che gli arabi gli arabi avevano faccio vedere una cosa noi di personaggi ne avevamo preparati una caterva ma poi ne discuteremo li divideremo per quelli di terra e quelli di aria l'abbiamo raccontata la storia di Weizmann del dell'avia no dilla pure te la diciamo perché divertendo me l'ero messa lì proprio per per divertimento sempre in ottica visto che si parla della formazione che avevano pregressa Weizmann che era un pilota della RAF prima nel 48 comprò praticamente dalla cecoslovacchia questo aereo qui chiunque direbbe un 109 invece non è un 109 anche se è un derivato del 109 G12 mi paro G14 in realtà questi sono delle cellule che erano rimaste in produzione in cecoslovacchia e di cui i cecoslovacchi produrrono produsero praticamente questo tipo di di aereo che era una variante che non aveva il motore 605 aveva se non sbaglio quello dell'Einkel che era pesantissimo era problematico non aveva lo spazio sul mozzo dell'elica quindi non potevi avere il canone centrale hanno messo le gondole laterali per i canoni e questo particolare aereo Avia o Avia S199 abbattì uno Spitfire quindi è interessante vedere che loro avevano questa è la versione ovviamente che ora c'è questa è la versione israeliana però se non sbaglio ne esistono tre modelli un paio sono in cecoslovacchia per dare o c'è solo a chi insomma vediamo dove va l'accento quindi di storie strane che girano dietro a tutti questi personaggi israeliani ce ne sono tantissime perché veramente sono tanti sai anche se dedichi cinque minuti a ognuno di loro ci facciamo una live intera solo a parlare dei personaggi per dare un'idea era la carrellata dei vari comandanti che abbiamo messo sì ma li vediamo nelle volte prossime anche comunque uno uno dei nostri ascoltatori ecco questi erano allora questo è il comandante della marina questi sono Dayan quelli prima Dayan e Hod no Mordecai sì Mordecai Hod Dayan sì no volevo dire prima uno degli ascoltatori ci aveva fatto una domanda di quali aerei disponeva Israele in quel periodo allora altra battuta come ho detto prima la 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 forza aere israeliana il nome ufficiale della forza aere israeliana in quel periodo era Hel Ahavir cioè forza aerea forza aere israeliana tuttavia tuttavia la 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 quasi praticamente la totalità degli aerei da combattimento e la gran parte dei velivoli in generale considerando anche il trasporto l'addestramento il gli elicotteri era era di origine francese quello è stato infatti il periodo di massimo dopo dopo che ho finito dirò una cosa rispetto ai personaggi di quella foto allora dicevo la stragrande maggioranza dei degli aerei dell'aeronautica israeliana erano di origine francese a tal punto che scherzosamente la forza aerea israeliana veniva chiamata dagli stessi israeliani Air France e a buona ragione perché i caccia principali degli israeliani erano i Dassault Mirage 3 della versione Mirage 3 e C J la J sta per Juif però vabbè li descriveremo più in dettaglio la prossima volta e poi c'erano i Dassault Mister i Dassault Super Mister i Dassault Wagan e poi come aerei addestratori c'erano i Fuga Magister che furono usati anche per l'attacco al suolo in missioni quasi suicide difatti il primo giorno di guerra le uniche missioni mentre la Air France era impegnata a distruggere al suolo le forze aeree dei paesi arabi in quella prima drammatica giornata le uniche operazioni di appoggio tattico di CAS di closer support dalla parte israeliana furono effettuate dai Fuga Magister e chi guarda le foto dei Fuga Magister li guarda sono dei piccoli addestratori e gli viene da pensare ma sono dei pazzi suicidi a usare quei trabicoli per attaccare delle forze corazzate eppure gli israeliani hanno fatto anche questo sempre di origine francese erano anche gli elicotteri gli Alouette 2 gli Aerospatial Alouette 2 e gli Aerospatial Super Frelon utilizzati anche per gli attacchi dei comandos quindi sì c'era tanto sangue francese nell'aeronautica israeliana poi dopo la guerra dei sei giorni arrivarono anche importanti quantitativi di velivoli dagli Stati Uniti d'America che hanno cambiato la genetica della forza israeliana ma questa è un'altra storia parlando invece di questa foto che è questa è una foto che è famosissima perché si trova in tutti i libri di storia ed è evocativa anche del diciamo del come possiamo io c'enterei anche i Vatour ah? i Vatour come bombardiere Vatour ah sì sì scusa con cos'è che usavano gli Shafid la versione israeliana dei missili aria ah sì quelli erano sui Mirage non sui Vatour no no ce l'avevano anche i Vatour ah sì sicuro ne portavano a portare due ah e andrò a controllare ah e comunque venendo a questa foto che questa è una foto molto bella evocativa anche perché tutti gli uomini che si vedono in questa foto sono diventati uomini cioè uomini importanti della storia militare di Israele e anche della storia politica e questi sono tutti membri della celeberima unità 101 che fu la prima il capostipite della forza delle forze speciali israeliane e da lì che poi tutto la grande storia ha avuto ci faremo una live ah beh sì nel formato forza dell'elite sicuramente comunque io volevo volevo attirare la vostra attenzione su una serie di personaggi che sono in questa foto allora il primo di cui vi voglio parlare si trova in basso tra i seduti a destra quello che si vede anche con le ali la medaglia delle ali sul petto sulla parte destra quell'uomo è Raffaele Eitan detto Raffoul lui è diventato uno dei soldati più decorati se non no il più decorato in assoluto no uno dei più decorati della storia dello stato di Israele e è diventato anche capo di stato maggiore delle forze armate israeliane negli anni settanta negli anni ottanta è stato colui che anche è rimasto in quella posizione per per più tempo non mi ricordo più forse sei anni o otto oddio adesso la memoria mi fa qualche cileca però è stato un personaggio che ha cambiato il volto della militare israeliano nel corso degli anni ottanta del ventesimo secolo torna però nella foto prima quella ecco la foto di gruppo poi quello lì cerchiato la cui testa è cerchiata di rosso è il capitano Aharon Davidi che fu uno dei personaggi diciamo che svolsero un ruolo apicale nella creazione del corpo dei paracadutisti un altro che svolse un ruolo parimenti importante sempre nel corpo dei paracadutisti fu invece il capitano Danny Matt che è l'uomo col basco che si trova nella seconda fila subito di fianco con la barba anche subito di fianco Moshe Dayan ecco con la barba barba e baffi e basco e il capitano Danny Matt Danny Matt poi c'è subito di fianco a lui Moshe Dayan che del quale abbiamo già parlato di fianco a Moshe Dayan andando verso la sinistra della foto c'è Ariel Sharon e anche di lui abbiamo parlato abbondantemente e infine e infine l'ultimo uomo quello che è proprio all'estrema sinistra della foto che pochi all'estero conoscono ma tutti conoscono in Israele è stato era il tenente Meir Arzion ora Arzion è stato un personaggio talmente importante nella storia militare israeliana Meir Arzion che ha dato anche origine al termine che esiste solo in Israele Arzionizzazione cioè non l'ho tradotto in italiano Arzionizzazione in realtà si dice in un altro modo però Meir Arzion era il comandante dell'unità 101 ed è negli anni 50 60 ha rappresentato secondo la propaganda diciamo ufficiale israeliana l'ideale del soldato e del cittadino israeliano è il loro vassilizzazione su steroidi però per dirti Meir Arzion venne veterano di tantissime operazioni militari venne gravemente aspetta è stato anche l'ultimo è stato intervistato poco prima di me da una tribù israeliana sì è vero è verissimo lui venne ferito gravemente durante la guerra del 1956 e si ritene cioè gli stessi medici israeliani dissero che era sostanzialmente invalido cioè poteva camminare ma non poteva più svolgere il tipo di tutto la pletora di operazioni che un militare a tutto tondo dovrebbe svolgere per cui lui venne addirittura dopo il 1956 congedato dalla riserva una cosa che in israele avviene solo rimangono anche quando sono decrepiti nella riserva non avviene quasi mai poi figuriamoci un mastino della guerra come lui che a guardarlo così sembra lì Mingherino non gli daresti due lire due centesimi di euro ma invece era un campione nel loro senso da parola nel 67 all'approssimarsi dello scoppio della guerra dei della guerra dei sei giorni lui si presentò con la sua divisa a tracolla un sacco pieno di granate alla Rambo anzi uno direbbe Rambo era una pulce rispetto a lui e con un coltellaccio in assicurato alla gamba e disse agli uomini della 55esima brigata paracadutisti che stavano per entrare a Gerusalemme gli disse semplicemente seguitemi nel corso dei combattimenti nella città vecchia di Gerusalemme lui riuscì a strisciare arrampicandosi con un unico braccio sui tetti fino ad arrivare alle spalle di un cecchino giordano del quale lui si sbarazzò semplicemente afferrandolo per la codotta tirandolo su e gettandolo giù dal dal palazzo sì dall'edificio con una mano sola e dopodiché passò all' ammunition hill e diede una mano agli altri soldati andando avanti e gettando granate a destra e a manca in tutti i bunker in cui erano posizionati i soldati i soldati giordani non contento e si presentò dopo anche durante la guerra dello Yom Kippur dopodiché usando una frase di la stessa frase che John Rambo disse all'inizio di di Rambo 3 al colonnello Trautman quando lo va a trovare in Thailandia le mie guerre sono finite finirono anche le guerre di Meir Arzion però aveva aveva lasciato decisamente il segno ha lasciato decisamente il segno nella storia militare dello stato ebraico allora e su questo io direi che possiamo chiudere la live perché sono più di tre ore e noi ci siamo ripromessi di fare una doppia trilogia che durerà più del Signore degli Annelli quindi la media per ogni live saranno tre ore quindi saranno diciotto ore su le guerre arabo-israeliane qualcuno ci ha chiesto se faremo mai la guerra delle Fulcran delle Malvinas è sicuramente interessante fare anche quello anche perché si può racchiudere in due o tre ore secondo me abbastanza bene io ringrazio tantissimo ragazzi state tranquilli che nei prossimi mesi e anni vi sfameremo più che a sufficienza abbiamo un programma che qualche ci fa qualche ci fa una beffa abbiamo perché tanto dobbiamo fare schede di tutto un sacco di di guerre poco coperte che secondo me sono interessanti come Iran-Iraq Pakistan-India c'è un sacco di guerre che vogliamo coprire che nessuno fa e che vogliamo fare però a noi ci piace fare le cose bene perché parlare di questo genere di conflitti devi poi fare una introduttiva una sullo sconto terrestre una sullo sconto aereo se vuoi fare veramente le cose fatte bene in maniera dettagliata e vi forniamo anche sotto tutti gli spunti di lettura e le fonti se avete proposte come quella della guerra delle Fulcran fatecele ovviamente c'è l'idea di fare le schede poi di occuparsi anche di una sezione sulle truppe speciali quindi anche lì ci sarà da ridere perché passeremo dalle Stostruppen alle truppe d'elite per dire sono di cose da coprire se vi viene in mente qualche nome per questi format mandateceli andate sul mio telegram e proponete magari faremo un sondaggio nella community vediamo se esce fuori qualcosa io ringrazio tantissimo Andrea per queste tre ore e sei minuti grazie a tutti quelli che ci hanno seguito finora che siete ancora più di mille e alla prossima e tanto di cose ce ne sono buonanotte ragazzi grazie a tutti grazie a tutti